sembrare una delle vibrazioni basta comunque stavamo dicendo di Bava che mi sta sui coglioni grandissimo ha iniziato il recording ciao grande tanto non la tengo se mi insulti pesantemente la taglio ma ti pare che la insulto dottor Bava la prego molto bene quindi dobbiamo fare un intro buonasera bentornati nel fantastico meraviglioso trio che tutti conoscete abbiamo nel nostro trio abbiamo delle categorie molto protette quasi in via di estinzione si vedono eh uno che è Robert De Niro dopo l'incidente e l'altro boh non si sa bene un essere etereo l'unico che non sta fumando in questo trio indovinate chi è che sta anche schiumando sto schiumando ma non sto fumando comunque al di là di tutto quindi siamo qui questa sera per parlare di film meravigliosi tranne uno sì tranne uno quale sarà esatto grazie per aver rovinato nove ore di ripresa proprio ma nei primi secondi subito quindi abbiamo tutti scelto dei film veramente anche questa è la tua serata sei tu che scegli hai scelto il primo e l'ultimo film è la responsabilità di questa puntata è tutta nelle tue mani sei tu che ci sceglierai e tra l'altro hai scelto proprio sì come dicevo io vi guiderò proprio come un abusatore di bambini tenendovi in mano nella mano verso il mio furgone vintage nel parcheggio e quindi hai scelto hai scelto un bel film uno bello l'hai scelto vedi uno bello anche uno allora io un secondo l'avrei scelto che sarebbe stato meglio di qualcos'altro però la gente ha pianto in chat dicendo non mi piace più l'ambientazione un altro ha rotto il cazzo per altre ragioni fai quel film che è proprio bello è bello bello in realtà era uno era uno su cui ero preparato quindi potevo potevo parlare un po' di più quel film mi ha fatto venire voglia di essere crocifisso al mare sì no io non me lo ricordo quel film lì l'ho visto un motivo ci sarà l'ho visto ho dormito e un po' l'ho visto boh me lo considero visto adesso ci arriveremo e ci arriveremo e prima della fine ci arriveremo comunque molto benissimo partiamo subito col botto quindi il primo film che ho avuto l'onore e l'onere di scegliere è stato niente pop pop di 1900 allora quante volte ti ho detto che quando vieni portato mano nella mano verso il furgone del film non devi parlare il primo film è 1900 ma dice allora qual è questo cavolo di film se lasciassi passare quel minimo di delay che internet consente io lo direi anche il titolo del film fumare e parlare non fanno bene quindi fuma in silenzio il primo film è 1984 quindi il titolo è quello molti lo ricordano come Orwell 1984 e ora cercherò di raccontarvi quella che è la trama di Orwell cosa non facile cosa che mi ha richiesto un buon livello di concentrazione cosa che per me è decisamente ardua e soprattutto l'assenza quasi totale e attenzione ho detto quasi di droghe stiamo parlando appunto di 1984 e in inglese detto molto benissimo 1984 appunto del maestro Orwell parliamo il mio anno di nascita se qualcuno lo può interessare io stavo cercando in vano di mettere il ritornello di 1984 di Bowie il film è ambientato in un 1984 distopico cosa vuol dire distopico? ipotetico io dico ok ovvero non reale quindi non è un po' come il medioevo delle trecce di qualcuno però il 1984 è distopico appunto il medioevo delle trecce è distopico l'esempio è perfetto e corretto ed è ambientato in quella che è l'oceania l'oceania ovvero l'Inghilterra che si trova in guerra con l'Eurasia in oceania ovvero l'Inghilterra andiamo a scoprire fin da subito l'esistenza di questo regime fermo un attimo si sa perché la chiama oceania no o perlomeno io da quello che ho potuto vedere e soprattutto sentire non c'è una definizione o perlomeno non l'ho trovata sul fatto che come si chiami oceania appunto l'oceania che è l'Inghilterra e non è solamente l'Inghilterra ma sono vari paesi uniti insieme è in guerra contro l'Eurasia e già dal nome Eurasia più o meno si riesce ad intendere un conglomerato di paesi che sono in guerra appunto in oceania c'è questo regime che è chiamato Ingsoc che è fondamentalmente il partito socialista inglese in questo contesto ovvero di questa Inghilterra sotto regime andiamo a seguire le vicende di Winston Smith che è interpretato da John Hurt John Hurt è Alien attore famosissimo appunto conosciuto da praticamente tutti gli amanti della fantascienza per la famosissima scena appunto di Alien che partorisce a tavola ha fatto anche una parte abbastanza importante in un film abbastanza recente che è Snow Pierce faceva Snow Pierce faceva il vecchio fatto a pezzi che si vede all'inizio insomma ha fatto anche Indiana Jones 4 John Hurt faceva una parte in Indiana Jones 4 proprio per i film più di merda Midnight Express è grande Midnight Express gran film comunque non deviamo interpretato da questo benedettissimo John Hurt che interpreta Winton Smith che fa che interpreta un burocrate che cos'è un burocrate è un lavoratore che lavora per il regime nel Ministero della Verità il Ministero della Verità cos'è? è un ufficio possiamo dire che si occupa della propaganda e del revisionismo storico cosa fa in sostanza? è detto a riscrivere la storia in uno dei dipartimenti del regime quindi cosa fa questo benedettissimo regime? cancella il passato il passato non esiste più e lo riscrive in funzione appunto del in funzione appunto degli scopi di questo Ingsoc di questo viene denominato Grande Fratello però Grande Fratello non è il regime il Grande Fratello è il capo del regime la punta della piramide il volto la facciata di quello che è appunto la Ingsoc un giorno Winston Smith viene approcciato dalla bella Giulia che è interpretata da Susanna Hamilton e i due commettono ahimè il reato di innamorarsi anche perché in Oceania sotto questo benedettissimo regime persino le relazioni gli incontri sessuali e quant'altro sono molto disincentivate i due iniziano a portare avanti quella che è la loro relazione clandestina quindi con bigliettini pizzini frasi non dette più che altro nei quartieri dei prolet chi sono i prolet dalla parola viene un po' fuori che sono i proletari coloro che rivestono l'ultimo gradino nella scala gerarchica di questo regime del Grande Fratello e sono anche i più numerosi Winston e Giulia cosa fanno decidono un bel giorno proprio perché ambe due coltivano quella che è una voglia di ribellione detta anche a mezza bocca ambe due vogliono libertà anche perché amarsi diciamo più che altro loro io l'ho vista che il loro amore vogliono cambiare io ho visto anche un po' quello voglio dire il loro amore è un atto di ribellione quindi possiamo però quello va oltre è un approfondimento che non fa parte della trama comunque i due più che altro Winton Smith viene approcciato da un tale O'Brien che è uno del partito interno quindi una delle gerarchie più elevate di quella che è l'Incsoc viene approcciato e viene invitato all'interno di quello che è il suo ufficio scopriamo che O'Brien appunto è un importante funzionario e Winton Smith riceve da lui il libro Teoria e prassi del collettivismo oligarchico mamma mia che libro difficile gli ha prestato sto qua appunto parlaci di questo libro dottor Narducci fondamentalmente io non l'ho letto diamo un nome alle cose da quello che ho capito è il manifesto dell'organizzazione che si muove contro l'Incsoc quindi contro questo benedettissimo regime diciamo un'organizzazione tra virgolette potremmo definirla ribelle però in un ambiente controllato da grande sì faccio solo una piccola parentesi non è un culo quando gli dà il libro siccome è un libro proibito lui gli dà il libro dicendo che il nuovo la neolingua il nuovo dizionario della neolingua perché stanno negli anni manipolando anche quello che sono i termini questo però è un approfondimento che non fa parte della trama esatto perché anche io ne avevo di dire da cose la trama è un'altra cosa questo è un approfondimento della trama è cattivo stasera è cattivo scusate no 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 giusto giusto per rimanere nella giusta quadratura poi ci possiamo sbizzarrirci in tutti gli approfondimenti che vogliamo fatto sta questo benedettissimo Brian alto papavero di questo dipartimento interno seduce un po' Winston dandogli questo questo libro Winston ne viene immediatamente rapito e durante uno dei suoi incontri clandestini in quello che è il quartiere dei Prolet che se non sbaglio avviene all'interno della camera da letto di un antiquario che gliela subaffitta possiamo dire lui ne viene rapito inizia a condividere ovviamente oltre all'amore quest'amore fisico quest'amore fatto di oggetti vietati anche con la bella Giulia le parole di questo libro morale scopriamo che all'interno di questa stanza considerata sicura c'è un'ennesima videocamera del grande fratello dell'Incsoc che li riprende arriva alla psicopolizia che non è un errore di pronuncia ma è proprio la polizia del pensiero li arresta e li traduce ambedue li arresta e scopriamo che O'Brien non non lavora realmente per un'organizzazione segreta ma li ha sostanzialmente beccati li ha beccati con la classica con il classico premietto con diciamo la fava che becca due piccioni possiamo dire li ha un po' istigati li ha istigati esatto anche per saggiare e adesso lo scopriremo quella che è la loro fedeltà al partito li ha beccati subito gli ha dato questo libro e i due vengono tradotti nel nel reparto dell'amore è definito amore sì ok la pornografia questo qua mi pare sia il reparto dell'amore sì lei lavora nel reparto pornografico sì quindi vengono tradotti in questo in questo reparto dell'amore e tutte e due vengono torturati e viene ad ambe due sottoposto a una sorta di lavaggio del cervello e vengono ambe due piegati noi vediamo solamente la tortura psicologica e forse ci fanno intendere anche fisica di Winston non vedremo mai quella di Giulia però vengono tutte e due piegati a quella che la volontà è un vero amore reale amore per quello che è questo partito quindi Winston dopo questo lavaggio del cervello viene scarcerato e tra virgolette riabilitato e rincontra Giulia in quello che è un pub o un locale insomma un luogo di aggregazione ancora consentito dall'Incsoc tutte e due si confessano apertamente che si sono traditi vicendevolmente quindi addirittura si è arrivati al punto che durante la tortura ah perché fate questo a me fatelo a lei e viceversa di riflesso capiamo che anche lei ha detto la stessa cosa e vediamo appunto che il film si conclude con Winston che fissa questo questo ennesimo grande schermo delle notizie propagandistiche dell'Incsoc che dice che l'Oceania ha vinto gli Eurasiatici questa guerra con gli Eurasiatici in Africa e quindi il film si conclude appunto con questo sguardo smarrito di Winston smarrito più che altro di reale amore nei confronti di quello che è il partito e il grande fratello fine questa è la trama passiamo all'altro team allora adesso approfondiamo no? approfondiamo anche la prima punta che dico senti come senti come provoca che approfondiamo sentiamo cosa avete da dire ma perché si è sentito un po' un po' preso sottotiro nelle altre puntate adesso vuole sgargiarsi esatto infatti io sono qui tranquillo e passivo è tutto tuo e allora il primo il primo approfondimento che voglio fare è quello su questi grandissimi schermi che sono presenti ovunque e questi schermi non solo trasmettono notizie propagandistiche eccetera ma riprendono anche quindi se tu sei comunque davanti a uno schermo sei anche ripreso un po' come una webcam moderna possiamo dire di conseguenza questi schermi non possono essere mai spenti né il volume può essere tolto quindi in ogni casa privata e singola c'è sempre questo schermo che continua 24 ore su 24 a dirti quanto è bello quanto è bella l'oceania quanto bene vanno le cose e soprattutto anche fa vedere molto spesso le confessioni dei traditori sì dove questi questi uomini con un close up proprio sulla faccia molto vicino confessano in maniera molto sincera scopriremo successivamente perché tutti questi traditori sono passati volenti o nolenti per sta benedetto partito coso dell'amore tutto inventato praticamente cioè tutto gli si sono attribuite a questi qui le cose infatti inizia proprio con le confessioni di un traditore il film sì il film inizia con un ritrovo di piazza nel quale ci sono le confessioni dei traditori a questo schermo e tutta la folla urla il proprio odio nei confronti di questi traditori infatti all'inizio vediamo proprio questa immagine di folla ripresa dagli schermi che urla proprio di rabbia selvaggia verso traditori fate schifo e quest'odio poi si va a tramutare successivamente in amore e gloria e anche questo bellissimo simbolo non so se si vede per il grande fratello e questo simbolo ricorda tanto le manette sì questo questo segno d'amore no e il logo dell'Incsoc ah no l'Incsoc è una stretta di mano vedo sì una stretta di mano una mano bianca mi pare una mano nera questo potrebbe voler dire noi siamo servi del partito ci piace che il partito ci tenga così e questo è il nostro il nostro motto praticamente sì è un pinto simbolo di unione probabilmente sì o di unione o comunque c'è chi lo accetta comunque una aperta anche una piccolissima parentesi una cosa che mi è piaciuta forse un macello è stato notare che le divise delle donne ricordano tanto quelle di Kmer Rossi le divise delle donne all'inizio hanno questa hanno praticamente questa casacca legata da una fascia rossa alato tipo cintura mi ha ricordato un macello le vietnamite le vietnamite del partito del partito comunista ma allora c'è c'è un richiamo comunque a quello che sono le divise dei totalitarismi teniamo conto che Orwell comunque faceva parte del partito comunista inglese quindi in realtà allora le tematiche di Orwell sono state prese in causa praticamente da chiunque partiti di destra partiti di sinistra da reazionari insomma qualcuno ha preso il libro o il film e l'ha strumentalizzato al fine di portare avanti una una loro idea cioè si adatta si adatta perfettamente a qualsiasi a qualsiasi visione c'è da dire che Orwell l'ha scritto con Hitler appena passato cioè qua nel 48 l'ha scritto Orwell no non è 84 e 48 ha rovesciato i numeri se non sbaglio lo scrisse nel 48 e lo intitola l'hanno esatto perché ha rovesciato i numeri sapevo questa cosa io non sono andato a leggerlo ma sono sicuro che sia quello più o meno gli anni in cui l'ha scritto pubblicato nel 49 si è scritto nel 48 nel 48 sì quindi l'avrà scritto probabilmente qualche anno prima la grossa tematica sono quella comunque dei grossi totalitarismi e di quello che possono fare in ogni loro forma ecco questo può essere una tematica che vale un po' per tutto quindi il fatto che il governo vada ad agire su quello che è il linguaggio su quello che sono il libero arbitrio i concetti quello che fa quello che fa lui per esempio quel revisionismo che fa lui a me ha fatto venire in mente proprio che vogliono per soprattutto per le nuove generazioni mano a mano cancellare i concetti esistenti e rieducare la razza umana privandola di moltissimi concetti perché la cultura è libertà l'ignoranza è schiavitù e in realtà te lo gira uno dei loro motti è l'ignoranza è libertà vogliono proprio rendere la popolazione ignorante poi un'altra cosa è che nel lui nel lavoro che fa lui il protagonista vediamo che gli arrivano dei telegrammi delle notizie sul giornale dei giornali in cui c'è la notizia correlata di foto e lui cambia a volte le foto quindi fa un lavoro di collage tra notizie e foto quindi può incolpare gente che in realtà non ne può nulla è tutta la azione beh anche lui anche lui alla fine deve fare una confessione in mondo visione lì sullo schermo e chiaramente non è colpevole di tutto quello che gli hanno attribuito tipo anche che ha fatto degli attentati bombaroli ha dovuto ammettere qualcosa del genere che ha fatto e tra l'altro per quanto riguarda i televisori quando va a trovare O'Brien la prima volta lui lo può spegnere il televisore tant'è che John Hart Winston ci rimane proprio è un momento fantastico perché ci rimane proprio ma tu puoi spegnerlo e rimane proprio lì cioè colpitissimo da questa cosa quindi vuol dire che salendo di gerarchia ottieni qualche libertà in sostanza la corruzione è presente quanto più o meno e oltre questo il grande fratello comunque l'Oceania è perennemente in guerra sì la guerra non finisce mai è tutto strumentalizzato e la guerra viene costantemente mantenuta proprio per mantenere quello che lo status quo uno status di privazioni uno status di dobbiamo fare sacrifici voi dovete stare al vostro posto perché noi siamo in guerra con loro e loro sono i cattivi e noi siamo i buoni e chiunque dice il contrario è un traditore e deve finire nella cioè deve finire male tra l'altro poi nel finale noi non sapremo mai se il protagonista aspetta Winston sì è Winston come è Winston il protagonista Winston verrà insieme a Giulia o meno ucciso perché il grande fratello fa delle esecuzioni ogni tot di tempo dei traditori di conseguenza noi non sappiamo realmente se le esecuzioni sono immediatamente successive a quella che è la confessione molto probabilmente il partito si tiene lì coloro che hanno tradito e coloro che hanno confessato ovviamente tradito e confessato se li tengono buoni e poi quando gli serve per motivi politici questi vengono portati sul patibolo e uccisi davanti a tutti anche perché l'uccisione del patibolo è definita un po' come anche uno spettacolo anche la stessa Giulia esatto non perdiamoci esatto come le ghigliottine e le impiccagioni devono dare da mangiare al popolo qualcosa praticamente e tanto per loro per loro persone come Giulia e Winston sono un po' degli ingranaggi guasti per il partito perché comunque sanno che in qualche modo non possono cedere la loro rispetto alla fedeltà e alla fiducia nei confronti del partito quindi no poi comunque sono strumenti sono strumenti utili perché la cosa da tenere conto è che oltre a esserci questo video che proietta immagini di guerra immagini di manifestazioni e confessioni di prigionieri o di dissidenti c'è una costante voce che mi ricorda moltissimo a volte qualche telegiornale di questi ultimi anni dove dà soltanto numeri la produzione di cracker è salita dell'800% la produzione di carro armati è salita del 5% da domani ci sarà il 25% in più di cioccolato si esalta quello del cioccolato è anche molto molto carino è molto apprezzata lui va proprio a modificare perché il grande fratello cioè il partito gli comunica tramite giornale che le riserve di cioccolato le razioni di cioccolato sono diminuite dal 35 al 25% lui modifica la notizia dicendo le riserve di cioccolato sono aumentate dal 20 al 25 e il suo vicino di casa lo incontra e dice hai sentito le riserve di cioccolato sono aumentate fino al 25% proprio una bella giornata va a modificare quella che è quindi c'è c'è un'ubriacatura totale dal punto di vista di numeri sterili adesso non voglio fare polemiche né niente però se uno fa caso specialmente in questo periodo per quello che è già stato con la pandemia i giornali i telegiornali e tutto pubblicavano quasi solo esclusivamente numeri stime spesso non correlati anche con quello che sono le l'esegesi cioè la traduzione la spiegazione di questi numeri e stiamo andando forse già da un bel po' di anni stiamo andando anche verso questa questa cosa qua c'è l'importanza di dare in continuazione numeri numeri percentuali solo per per ubriacare in un certo senso la l'utente e non far riflettere a volte su quello che è in realtà la il fulcro la notizia principale per vendere chiarezza cioè a quel punto il popolo sa che il partito sa le cose perché è molto chiaro e preciso nel dirgliele e quindi ha tutto sotto controllo e soprattutto non ha oppositori ma quelli non li ha a prescindere credo non esistano proprio gli oppositori in questo mondo così sai 32 secondi così con lo sguardo fisso no invece ho capito dove stavo parlando io e rivolgo la parola rivolgo la parola eh sì infatti ha terminato Bava in realtà nessuno si oppone al partito e Paolo no invece si opponiamoci al partito basta dissidenza no in realtà al partito fa comodo che la gente si opponga nei minimi termini questo perché così dà al popolino ai prolet la diciamo la spinta per andare contro il questa gente qua tra l'altro noi prolet a parte una vecchia e una prostituta non li vediamo mai forse balla la scena la scena nel bar quando devono che c'è anche la polizia c'è una piccola scena in cui si vendono i prolet che sono sì in realtà il basso proletariato gli operai di una volta esatto i minatori e gli operai di una volta che poi anche loro che non sono prolet i protagonista gli altri perché hanno delle delle mansioni un pochettino più diciamo elevate non è che fanno sta vita di agi vivono praticamente in catapecchie vivono in stanze semi vuote si lamentano in continuazione ad esempio gli uomini che non hanno le lamette per farsi per farsi la barba si chiedono una sorta di continuo rimando questa cosa qua e ho trovato anche molto 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 onirica il fatto che è chiaro che c'è chiaro viene suggerito che c'è stata una guerra nucleare su questo non abbiamo dubbi c'è stato suggerito questo ma soprattutto ho trovato onirica la scena quando lui va fuori dalla città su questo benedettissimo treno e si incontra in questa magnifica foresta con Giulia e se la bomba per la prima volta sì c'è una cazzo di foresta e vediamo e vediamo sì un'acconciatura afro per dire molto sì al di là di quello il fatto che esista una foresta esista il verde ma non stavi parlando dell'acconciatura fino a poco prima si vive in questo cemento tutto grigio tutto triste tutto brutto loro hanno questo benedettissimo incontro in questa foresta scesi dal treno e poi si vede lì è palese la scena onirica di lei che corre sullo sfondo di windows sfogliandosi sì è vero sembra lo sfondo di windows io quella scena me la ricordavo perché ho visto questo film quando ero ragazzo adolescente e quindi ora porti gli occhiali comunque uno degli altri prodotti che vediamo è l'antiquario ma sto antiquario quello che gli affitta la stanza non credo sia un prolet però è nei prolet è in quel quartiere lì è in quel quartieraccio brutto brutto lui si fa il giro in quel bar che dicevi tu Paolo poi va dalla prostituta e poi o prima o dopo va dall'antiquario anche l'altro ecco la scena della prostituta è molto bella perché poi lui va a ricercare lo eccita non tanto la bellezza fisica quanto sei corrotta infatti la prima volta che chiede che si incontra con Giulia nella foresta gli fa ma tu sei disobbediente tu sei beh ascolta è curioso di conoscere la disobbedienza di Giulia secondo me va da questa qui invece dalla prostituta ci va perché sta vagando e non sa minimamente che cosa fare si può ricordare anche sua madre andiamo sullo psicanalitico no la cosa la cosa interessante della prostituta è che quando lui la vede da lontano sembra una una ragazza comunque una una signora abbastanza piacente sì l'unico mezzo che ha è il rossetto che lui lo nota subito e man mano che si avvicina all'inquadratura aumentano i dettagli aumenta la definizione e si vede che è una vecchia si bruttisce come al pub se perdi l'alcol e ti avvicini alla tipa ma no vai via in principio sì è quello ma la cosa molto molto bella che lo fa in un voice over nel commento nei suoi pensieri è il fatto che la descriva cioè descriva la stanza descriva l'ambiente in maniera molto meticolosa un odore di insetti di sporco che lei che fa schifo in poche parole questo lo dice in maniera non proprio elegante e poi la cosa che lo colpisce di più è il profumo scadente che non mi ricordo se lo paragona forse al tuzzo degli insetti una roba del genere è una scena abbastanza cruda molto è angosciante sì sì esatto un po' angosciante prende un po' lo stomaco per come è descritta cioè per è molto è molto precisa come come situazione è quasi una una pagina di un libro scritto aspetta volevo collegarmi a quello che hai detto è quasi una pagina di un libro scritto cioè questo voice over comunque lo noti magari non subito ma dopo un po' che vai avanti nel film è ovviamente la voce dello scrittore voglio dire proprio hanno usato il voice over così descrittivo tra l'altro è un descrittivo poco quotidiano è un descrittivo da romanzo comunque esatto scritto è comunque una forma di grande rispetto nei confronti di un testo di un romanzo che è diventato fammelo dire esagero un attimo però una specie di bibbia no e forse il romanzo più famoso del novecento è probabilmente quasi un testo universitario io lo paragonavo io lo paragonavo a un romanzo mentre guardavo il film soprattutto una cosa che hai detto tu Paolo prima cioè che questo romanzo è stato adattato e copiato in mille salse qualsiasi film di fantascienza dove vedi una società utopica arriva molto probabilmente dagli spunti che gli ha dato Orwell ma magari non lo cita assolutamente ecco aspetta aspetta scusa devo dirlo ce l'avevo lì no vai vai Equilibrium bravo è Orwell con le pistole ma è vero Equilibrium ha unito due cose ha unito Fahrenheit 451 con Orwell 1984 ma ha unito queste cose qua e hanno fatto Equilibrium ma come quello ce ne sono tantissimi altri c'è volendo anche Minority Report un po' più famoso un po' più bellino ma lo stesso Matrix lo stesso Matrix che richiama Alice nel Paese della Meraviglia mi è venuto in mente Matrix per esempio si basa su Segui il Bianconiglio inizia come Alice in un mondo che ricorda molto invece quello di Orwell comunque almeno nei concetti e ho detto Orwell vince su Alice comunque in generale la differenza di Orwell è maggiore di quella di Alice la differenza però fra Matrix e Orwell 1984 è abbastanza netta ci sono delle tematiche comuni quello sì però diciamo che da Matrix è una presa di coscienza che cerca di scardinare quello che sono le regole di questo mondo del mondo di Matrix mentre invece Orwell è una cruda presa di coscienza e impossibilità di uscirne è un'accertazione della nostra società si può dire della nostra condizione è diametralmente opposta a quella poi di Matrix tant'è che nelle scene finali quando viene torturato c'è il torturatore che dimostra per mille volte quante esatto quante dita quante dita sono sono tre o sono quattro no quattro o cinque se non sbaglio esatto quattro o cinque ma se il partito dice che sono cinque tu cosa dici dici che sono cinque e viene torturato allora sono quattro e viene torturato perché lui in realtà non gliene frega assolutamente nulla non gliene frega nulla neanche del partito al torturatore che è poi questo finto amico adesso mi sfugge il nome che l'ha citato prima O'Brien O'Brien tra l'altro interpretatore un attore della Madonna che ha fatto un botto di film Richard Burton grazie e Richard Burton che però fammela aprire e chiudere subito sta parentesi c'è un po' il Gary Cooper della situa nel teatro e nella recitazione inglese credo cioè bravo molto bravo ho fatto dei film molto importanti ma fai tu il livello voglio dire fai te che livello c'hanno e c'avevano che non so io però era un bellone era l'uomo di Liz Taylor lo storico marito di Elizabeth Taylor ai tempi d'oro io un'ultima cosa volevo dirla un'ultima lo so che poi ho parlato poco però volevo dire un'ultima cosa che è una riflessione la sparo grossa questo film ti fa capire vedendolo oggi nel 2020 soprattutto in questo periodo che il concetto del rapporto tra autorità e popolo è obsoleto ho lanciato la pietra in mezzo alla folla poi sto in silenzio c'è che c'è quello in mezzo alla folla che ha ricevuto la pietra dove cazzo è detto se ci pensi il mondo di Orwell il mondo di Orwell si svela da solo perché questi qui alla fine non sono delle autorità sopra di lui ma sono anche loro comunque in questo mondo cioè intendo dire il personaggio di Richard Burton si i capi in realtà non li vediamo non sappiamo neanche chi sono non sappiamo neanche se ci sono chi è che amministra tutto cioè questa figura che tra l'altro ricorda magamente Stalin che è questo grande fratello ma si è un mago di Orwell praticamente se non sbaglio si vede una piramide si vede una piramide del partito interno se non sbaglio c'è uno shot mentre sono nel quartiere dei proletari che è tutto devastato eccetera in lontananza si vede una sorta di piramide con la punta illuminata ah dai che sembra l'unico edificio moderno quello che è Animals dei Pink Floyd c'è la copertina di Animals dei Pink Floyd tra l'altro sì diciamo comunque quella cosa mi ha colpito perché l'unico hai citato hai citato i Pink Floyd The Wall è un altro è un altro è un'altra opera che ha preso spunto da Orwell per esempio il film sì sì non ricordo di preciso se ha dei rapporti con la società però avverte ovviamente sulla depressione sulla solitudine sull'isolamento del giovane sull'educazione non richiesta la libertà di espressione educazione non richiesta esatto anche solo il fatto il pezzo dove c'è il professore che ha questi questi occhi che sono queste videocamere che controllano e poi si trasformano mi pare in martelli che poi marciano facendo questo movimento qua sì grande esempio grande non tanto però un esempio importante è anche THX THX di George Lucas il primo lungometraggio di George Lucas prima di American Graffiti e Guerre Stellari THX 1138 vivono in un mondo che è quello di The Island The Island con Ewan McGregor e Scarlett Johans e Michael Bay sì 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 ecco The Island è fatto è un remake figo intendo dire esteticamente figo è molto di THX 1138 di George Lucas benissimo io a questo punto direi dato che è passata un'ora tiriamo le nostre conclusioni su 1984 allora dato che l'ho proposto il film la cosa che mi sento di dire è che l'ho trovato un film molto moderno un racconto comunque molto moderno un racconto che molto tristemente secondo me non invecchierà mai dico tristemente perché comunque dà sempre degli spunti interessanti sui quali riflettere e soprattutto si fa vedere determinate cose portate ovviamente all'eccesso e negativo della società in cui viviamo direi che è un film molto attuale che tutti dovrebbero vedere e chiunque cova un minimo senso di ribellione non potrà appare a meno di trovarci sì dentro e sbazzarci io mi sento assolutamente di consigliarlo anche a tutti gli amanti innanzitutto dei film di fantascienza dei film distopici veramente promosso pieni voti consigliato sì sono d'accordo io non so se uscirò meno dalla formula del voto perché non vorrei sembrare proprio uno che si fa il fenomeno però vabbè anche se sembra un po' uno che si fa il fenomeno va bene comunque un bel film grandissimo romanzo bel film soprattutto l'ho rivisto e mi è piaciuto di più di quando lo vidi perché è maturo come film è indubbiamente un film che va visto va compreso secondo me lo puoi comprendere se sei un pochino più adulto di un adolescente lo puoi comprendere meglio soprattutto la tristezza di quest'uomo e il suo peso perché tutto così brutto eccetera bel film bella regia bella fotografia bravi attori eccetera eccetera bel film io anche lo consiglio assolutamente come diceva anche Andrea tutti gli amanti della fantascienza tutti gli amanti di tutto quello che è il genere distopico e devo dire che ha una ha una poesia interna molto underground molto interessante quindi promosso a strapieni voti sotto tutti gli aspetti diciamo anche che ci sarebbero un milione di altre cose da dire però non possiamo andare avanti cinque ore perché ogni cosa allora la domanda dopo dove ci ha spediti Paolo Bergonzi questa volta esatto e soprattutto con il grado di collegamento e chi c'è da Bergonzi tutte le volte io ecco ti vogliamo tutti molto bene allora il grado di collegamento è l'anno presente nel titolo che è 1994 il mio anno in quegli anni in Giappone usciva un film che poi è diventato epico e quello che l'ha permesso a questo regista qua di essere conosciuto anche in Italia e in Europa anche se in realtà in Europa l'hanno in Italia l'hanno portato mi pare nell'87 il film in questione è un film d'animazione che è Nausicaa della Valle del Vento di Yaomi Azzaki film d'animazione che poi ha avuto come anche in Orwell è stato poi citato in mille altre declinazioni in varie opere per farle in breve la storia e sempre partiamo da un futuro distopico anche qua volendo un altro collegamento che può avere con 1984 c'è stata una diciamo una distruzione del mondo a causa di attacchi nucleari questo cosa ha causato ha causato la distruzione della natura che si è reimpadronita si sta reimpadronendo del pianeta ma in versione tossica nel senso che le persone non possono sopravvivere all'interno di questa giungla tossica come è chiamata nel film nell'adattamento dell'87 perché nell'adattamento che è stato fatto qualche anno fa mi pare nel 2015 che è stato ridoppiato e riadattato viene chiamato Mar Marcio che a me non piace anche se in realtà la traduzione corretta dal giapponese è proprio Mare Marcio noi vediamo questa principessa che si chiama Nausicaa che vive in questa valle del vento che è un piccolo insediamento in una valle appunto molto ventosa che la vediamo subito all'inizio si tramite una mascherina e una ala che è una sorta di chiamiamolo deltaplano super figo moderno con reattori eccetera eccetera va a cercare cose all'interno di questa foresta tossica e vediamo per la prima volta quello che viene chiamato adesso io faccio parallelismi tra quella la vecchia e il nuovo adattamento i mostrotarli i mostrotarli che sono questi giganteschi insetti e infatti vediamo che all'interno di queste foresti tossiche queste giungle tossiche gli insetti sono giganteschi hanno un aspetto quasi alieno ad esempio questi mostrotarli sono delle sorti di trilobiti giganteschi pieni di occhi lei prende un occhio una capsula dell'occhio perché è soltanto la lesuvia la parte la parte esterna che ha cambiato pelle per i non biologi questa è una parentesi per biologi per portarla e poter fare delle armi utensili rientra nella nella cittadina nel paese dove vive dove in realtà stanno riprendendo a coltivare delle piante anche se combattono con questo polline che ogni tanto arriva queste spore che arrivano queste spore sì che vanno ad attaccare le piante e le trasformano poi in in piante tossiche facendo un un riassunto molto molto veloce cosa succede? si vedono arrivare a un certo punto una nave volante gigantesca che si schianta all'interno c'è una principessa di un'altra di un altro paese e dentro la nave c'è una un qualcosa di misterioso che non si capisce bene lì iniziamo anche a vedere quello che è il rapporto di Nausicaa con la natura sia la natura tossica che lei comunque cerca di difendere non l'attacca lei è in connessione cerca di capire quali sono le cause che la questa questa giungla tossica c'è il perché la giungla tossica è tossica se realmente è tossica e che cosa può fare il genere umano per migliorarne le condizioni che invece cerca di sterminarle e distruggerla questa nave che è caduta ha tirato c'è una domanda prof è la prima volta che viene se non sbaglio chiamata principessa Nausicaa quando precipita quella nave e quindi vedi il rapporto anche lì comunque tra lei e i suoi diciamo in teoria sudditi il suo popolo è principessa ma non lo dimostra no no però è curioso perché lo scopri come in un c'è in mezzo a un dialogo ecco non è che finora non te l'ha mostrata come principessa però a quel punto lì come figura non è la classica figura della principessa tra l'altro inizialmente Yaomi Azzaki aveva pensato a un a un protagonista maschio concentriamoci sulla trama dai andiamo avanti è arrivato la principessa che era schiantata morta invece era la principessa di Peite che è questo altro paese questa nave caduta attira un'altra un'altra popolazione mettiamola così un altro un altro paese presa adesso mi sfugge il nome non ce l'ho tutte qua ce l'ho io Cusciana ecco là dove c'è la l'altra un'altra principessa Cusciana Tolmecchia e Pejite la regina Tolmecchi Tolmecchi ok la guerra è tra Tolmecchi e Pejitiani i grossi popoli e in mezzo ci sono i popolini tipo la Valle del Vento dove vive Nausicaa esatto Tolmecchi sì allora viene Tolmecchia esatto viene questa popolazione qua perché all'interno di questa di questa nave schiantata c'è un un titano un titano un guerriero invincibile che era stato utilizzato per la guerra termonucleare che ha distrutto mille anni or sono il tutto quanto il pianeta il vecchio mondo il vecchio mondo esatto iniziano praticamente tengono sotto scacco la popolazione della Valle del Vento perché vogliono prendere questo guerriero invincibile per distruggere Pejite perché Tolmecchi e Pejite sono in guerra avviene questa Pejite allora cerca di difendersi ah scusate Nausicaa viene catturata e vuole essere deve essere poi trasportata a Tolmecchia ma vengono attaccati da alcuni aerei di Pejite che invece perdono questa battaglia aerea e un ragazzo fratello della principessa di Pejite cadono nella foresta tossica nella foresta tossica allora diventano amici vanno riescono poi a scappare da questa da questa foresta tossica ritornano a Pejite raccontano cosa è successo e Pejite decide via scoprono che Pejite è stata distrutta da dei mostro tarli giganteschi che erano stati attaccati erano stati portati dai Tolmechi e Pejite decide di attaccare a sua volta la Valle del Vento e i Tolmechiani cosa utilizzano per per questa guerra all'insaputa di Nausicaa e di questo ragazzo che è diventato amico prendono un piccolo mostro tarlo un mostro tarlino che nella versione dell'80 scusate quella più recente è una chiamata di Om che sono praticamente non è stato tradotto dal giapponese attirano questa mandria di mostro tarli giganti per distruggere la Valle del Vento e distruggere i Tolmechiani Nausicaa si oppone e libera questo piccolo mostro tarlino lo salva lo cura anche se in realtà in mezzo a questo deserto mentre i Tolmechiani hanno nel frattempo rianimato questo titano questo guerriero invincibile che si autodistrugge dopo poco dopo poche raffiche di super cannonate termonucleari una raffica una raffica no ne fa un paio mi pare poi si scioglie poi si scioglie esatto perché è un'ingegneria biomeccanica una roba del genere non l'ha lasciato ricaricare troppo una roba del genere no perché lo hanno rianimato ma l'hanno poi rianimato troppo velocemente infatti come succede Nausicaa viene travolta da questi mostro tarli inferociti ma in realtà si accorgono che è una persona buona perché ha salvato questo piccolo mostro tarlino è una scena molto commovente in cui i mostro tarli guariscono fanno uscire fuori queste sorte di sinapsi queste specie di tentacoli dalla bocca e la riguariscono la tematica che non vi ho detto che adesso vi dico è che c'era una leggenda che la la vecchia la grandama la vecchia di corte racconta che un giorno arriverà dal cielo un guerriero su un prato di grano che salverà il mondo vestito di azzurro vestito di blu vestito di azzurro esatto l'immagine che noi vediamo e che va a scardinare tra l'altro anche la la società fallocentrica mettiamola così esatto sì la scena è la scena invece di lei questa ragazzina Nausicaa che cammina su questa foresta questo prato di tentacoli di questi mostro tarli che la guariscono ed è la stessa immagine di questo arazzo che noi abbiamo visto nelle sale del trono della valle del vento sì e addirittura la signora anziana che è cieca in quel momento lì quando ha questa apparizione tra l'altro una scena megagalattica ci sono tantissimi mostri tarli e lei è sollevata sopra una scena mastodontica c'è un primo piano della signora anziana che apre gli occhi e sembra che in quel momento veda ho avuto questa impressione tra l'altro fortissima questa cosa Nausicaa contraddice le sacre scritture che dicevano uomo guerriero mi sento rinunciare anche questa cosa innanzitutto Nausicaa è forse il primo film dello studio Ghibli quindi è stato il primo film d'animazione che ha lanciato fondamentalmente Miyazaki il maestro definiamolo Miyazaki all'interno di quello che è il mondo meritatamente oserei dire all'interno di quello che è il mondo dell'animazione in Nausicaa già riusciamo a vedere fin da subito poi punti forti di quelli che sarà Miyazaki ovvero il tema del pro ambiente volemossi bene all'ambiente ecologia è stato marchiato il WWF è stato il primo film che ha avuto il marchio WWF comunque vogliamoci bene anche tra noi esseri umani e soprattutto vediamo anche uno stile all'interno di quello che è di Nausicaa della Valle del Vento ovvero uno stile che Miyazaki riproporrà quasi in tutti i suoi lungometraggi che è quello del volo il volare se voi pensate anche ovviamente agli amanti di quella che è l'animazione giapponese eccetera specialmente Miyazaki ripete molto spesso il concetto di volo proprio perché è il suo marchio di fabbrica c'è anche da dire che il nome Nausicaa non è messo lì a caso infatti chi era Nausicaa è un personaggio dello di sé di Omero ed è appunto definita con lei che brucia le navi è vero lei seduce diventa la donna di Ulisse per un po' se non sbaglio sì ma soprattutto con lei che brucia le navi è incisivo anche trasportato all'interno di quella che è Nausicaa della Valle del Vento perché lei va a distruggere quello che lo statuto può va comunque a rompere quello che è un equilibrio noi spesso vediamo la nave come un qualche cosa quale fare affidamento che è lì solida ma bruciandola rompendola anche il bruciare la nave viene spesso riproposto all'interno di Nausicaa infatti da quando distrugge il robottone si scioglie eccetera è un richiamo e in più c'è da dire che io personalmente ho visto un richiamo a Dune è vero io ti posso dire io vi si tremo o orsa anche ma guarda ma più Dune perché li cavalcano in Dune 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 è molto molto simile è vero e tra l'altro è una storia difficile da leggere non è per niente facile sto Nausicaa voglio dire è lungo ha un sacco di piani narrativi e soprattutto ha tanti piani narrativi perché nel frattempo c'è uno scontro tra le popolazioni lei che è con Aspel e va a trovare e va in questo in quest'altra città distrutta cioè si muovono molte cose una sopra l'altra allora il fatto che ci siano più piani narrativi è anche un altro marchio di fabbrica di Miyazaki che io adoro nel senso che lo può vedere il bambino di sei anni o meno ha invece l'intellettuale filosofo perché è talmente è un iceberg sono tutti degli iceberg i film di Miyazaki hanno talmente tanti livelli narrativi che ci puoi scrivere veramente un'intera biblioteca l'altra cosa fondamentale di Nausicaa che appunto come dicevi anche tu Andre che è il tema del volo ma anche il fatto della come si chiama dell'affetto incondizionato c'è un'altra scena molto bella che è una cazzata però a me commuove sempre molto quando incontra il primo incontro che ha della la principessa Nausicaa che è con Yupa che è questa sorta di ramingo che gira a cavallo in un'attuce di dodo gigante il miglior spadaccino della storia lui lui cosa fa gli regala questo lo chiama Scoiattolino ah bellissimo bellissimo quell'esserino a me che siamo un po' Pikachu tra l'altro ha commosso e lì vediamo subito quello che è la caratteristica di empatica della protagonista gli dà questo scritto di papà attenzione perché ti può mordere allora lei cosa fa gli avvicina la mano lui si difende la morde lei cosa fa stringe i denti e gli dice non ti preoccupare non ti faccio del male e lascia ti lo morda lui allora cosa fa molto lentamente abbassa le orecchie molla la presa e si lascia allora addomesticare mettiamola così poi in realtà lo tiene libero e tutto è una cosa che già da lì vedi qual è l'indole di questa principessa lei non colpevolizza la foresta tossica lei tra l'altro in una scena molto bella dove si va a rifugiare nei sotterranei e viene poi trovata da Iupa lei sta coltivando un'altra foresta tossica ma gli dà viene nutrita con dell'acqua che dice a 500 metri sottoterra quindi acqua pura e queste piante qua non sviluppano la tossicità che hanno questa cosa è bellissima perché dice io ho capito qual è il problema il problema siamo noi siamo noi che stiamo dando alimentando odio e stiamo dando quello che è un'aria inquinata un'acqua inquinata a queste piante che loro si difendono da noi creando queste spore se noi invece gli diamo dell'acqua pulita e gli diamo amore queste piante allora non ci non cercheranno di ucciderci tutti vogliono bruciarla vogliono distruggere questa foresta tossica lei è l'unica che dice no dobbiamo salvarla cioè il messaggio ecologistico di Nausicaa è molto diverso da quello che è il mainstream dell'ecologismo specialmente poi in quegli anni lì che forse erano i primi anni dove si parlava di ecologismo a livello mondiale io volevo aggiungere che ridendo e scherzando Nausicaa ha 35 anni per essere un film dell'animazione di 35 anni fa 36 36 ecco diciamo 36 anni fa è una bomba c'è anche una piccola nota da dire che la prima volta che è uscito in Italia non era un lungometraggio ma era a puntate esatto e un'altra chicca che se volete se volete avere è quella che quando invece uscì negli Stati Uniti è stato chiamato Warriors of the Wind è stato fatto mi pare da Corman che ha totalmente possiamo dire stuprato la pellicola di Miyazaki facendola diventare protagonisti degli uomini adesso io non l'ho vista non so nemmeno dove andare a rintraggiarla non c'entra assolutamente nulla la tematica naturalista roba del genere c'è stata completamente distrutta la sceneggiatura il montaggio e ha creato un altro film tant'è che Miyazaki si è incazzato come una bestia e ha detto bene ora se volete avere i miei film voi non li dovete toccare assolutamente da lì si è imposto infatti come diceva anche Andre Nausicaa della Valle del Vento è stato il film che poi ha creato l'unione tra Miyazaki e stasera è il problema dei nomi esaltacata che hanno creato lo studio Ghibli quindi questo qua è stata la pietra che ha messo le fondamenta per creare quello che poi è questo grandissimo studio che ha sfornato film d'animazione che l'hanno poi portato anche un Oscar alla carriera con Castello Arrante di Aul beh io ho visto di Miyazaki e ho solo visto La città incantata mi era piaciuto tantissimo ecco quello che mi è piaciuto di più di tutti è stato La città incantata anche a me non li ho visti però avevo visto qualcosina di altri ma a parte che adesso ci sono tutti su Netflix io questo l'ho visto su Netflix piccola nota che in tanti apprezzeranno chiunque abbia visto Shin Godzilla Shin Godzilla è un film attualmente recente che è una critica sociale a Godzilla tra i vari disegnatori di Nausicaa c'è uno c'è il direttore dell'animazione di Shin Godzilla tale Hideaki io volevo dire un attimo la mia un secondo il tempo è finito ringraziamo tutti per essere rimasti con noi salutiamo Bava per essere stato con noi alla prossima non mancate sento che mi volete stromettere vedo che mi volete stromettere non interessa nessuno allora a me due cose come si nota? a me allora a me ha ricordato anche per quegli anni qualcosa riguardo non tanto ai costumi allo stile delle divise ma il fatto che abbia uniformato tutte le divise in un certo modo sia un po' fantascientifico un po' post-atomico un po' medievale sempre e rieccolo la raggi laser è meglio evo mi ha ricordato un po' Guerre Stellari ha qualcosa di Guerre Stellari questo film ma perché? e invece sì le maschere dei soldati cattivi che li attacchano semmai Guerre Stellari nell'ultimo inizio della trilogia ha preso a piene mani da Nausicaa no no ferma lì ferma lì io mi sto riferendo al primo Guerre Stellari cioè il quarto episodio io mi sto riferendo al primo della nuova trilogia con la tipella di cui non mi ricordo il nome la maschera determinate cose sono uguali maschera perché magari c'era già non l'avevi notata nei primi qual è che maschera? sì il modello della maschera adesso non me lo ricordo però ovviamente lo scrive quello però comunque protagonista femminile sola deserto e quella maschera la prima cosa che ho pensato è stata una musica io ho trovato che fosse una risposta giapponese nell'animazione a Guerre Stellari in qualche modo con i loro concetti ovviamente più concentrato sull'ecologia e sulla convivenza tra i popoli questo film che cosa ho da dire? io ho da dire che però appena l'ho iniziato mi ha affascinato molto l'ambientazione tutto ciò che è post-atomico e post-apocalittico a me piace tantissimo ma ho trovato questo disegno ora tiratemi tutto quello che volete un po' bidimensionale un po' antico come si parla dell'84 esatto esatto poi non hai davanti non hai davanti un fan dell'animazione giapponese nel senso che io da piccolo non guardavo preso benissimo Oli e Benji Sanpei nemmeno Kenshiro e queste cose qui quindi comunque l'animazione giapponese per quanto la città incantata mi sia piaciuta tantissimo ha dovuto fare comunque qualche passo avanti per catturarmi l'animazione della città incantata beh tanta roba per esempio ma anche gli ultimi Capitan Arlock per esempio ce l'ho in Blu-ray per quanto non sia un gran film l'animazione è eccezionale è una CGI è una qualità estremamente bella è fluidissima è stupenda quello è già è più computer grafica sì Capitan Arlock nuovo ma di una grafica strepitosa ce l'ho in Blu-ray in 2K detto questo per esempio non ero un fan di Arsenio Lupin e Mia Zaki è un autore di Lupin e infatti sono altalenanti i film di Lupin come qualità è del primo della giacca verde cravatta gialla e maggiolino se non vado errato e infatti guardavo lei ho detto ma cavolo diavolo questa è uguale a Margot di Lupin e infatti poi mi ho fatto mente locale ho detto ah già che Mia Zaki c'entra con Lupin perché non lo conosco così bene c'entra con Lupin mi sono andato a leggere delle robe ho visto che appunto presentava era associata a Lupin detto questo detti quelli che sono stati e anche Heidi ha fatto quelli che sono stati un po' i miei dubbile le cose che non mi sono piaciute il resto mi è piaciuto molto soprattutto è complicato comunque per essere un film d'animazione non è banale nel senso quanto può essere a volte un lungometraggio della Disney no? che non va non vuole mai andare a riflettere molto ma tende più che altro a fare un lavoro alla Orwell cioè a chiarire i concetti nella testa dei bambini quelli devono rimanere quello serve secondo me un po' la Disney ha fatto un po' quel lavoro lì nella sua storia la Disney nella testa dei bimbi Miyazaki invece è un po' più complicato e inserisce appunto delle tematiche più complesse oltre agli insetti che non sono mai una cosa tanto gradevole da vivere da vedere con cui rapportare questa cosa qua degli insetti a me è piaciuta perché in realtà è sempre non è nessun film forse Bugs and Hype dove però sono antropomorfi non sono mai stati presi in considerazione tra l'altro un altro film d'animazione molto strano francese che consiglio è Minus School che è un film muto sugli insetti ma vabbè se vi capita guardare l'ho visto è stranissimo ma molto bello molto interessante tra l'altro c'è da dire che l'animazione dei cosi talpa insomma gli insettoni sono velocissimi e fanno veramente senso quando si muovono perché si muovono con queste l'altra cosa che dicevo prima è che si vede la psicologia di Nausicaa questi mostri qua questi insetti sono bruttissimi sono angosciosi sono dei tafani giganti pieni di ponfi e robe del genere e lei invece no lei cerca di salvarlo quando cade la nave che in realtà è stata attaccata dai dei tafani giganti che sono trafano bue uno che lei lascia scappare questa me la rigioco per altri insetti che vedrò in giro per casa il tafano bue no ma allora Fede tu hai visto la versione quella con il doppiaggio nuovo con anche Pino Inspegno io l'ho vista su Netflix proprio io invece mi sono rivista perché mi è piaciuta un po' meno per sotto certi aspetti io invece ho la versione dell'87 che è ci sono più affezionato io quella nuova l'avevo vista addirittura al cinema e non mi aveva catturato più di tanto no dicevo tutti quanti vogliono uccidere questo tafano che è praticamente quasi moribondo lei invece la musica si oppone si mette tra questo tafano e la folla in ferocita per dire no non ci sta facendo non lasciamolo andare allora lei con una specie di richiamo lo richiama prende la sua ala questo specie di apparecchio volante e lo conduce in libertà e questo tafano non l'attacca dicono una cosa i soldati dicono una cosa non colpitelo se non ne arriveranno altri perché ne attirerebbe poi tantissimi altri e comunque lei vede va oltre l'aspetto è un personaggio interessante soprattutto per i piccoli è vincente è guerriera è atletica è una bella ragazza è una bella ragazza e vede appunto oltre l'aspetto estetico degli animali che non sono pur essendo brutti non sono del tutto cattivi e insegna tra l'altro una sfumatura tra buoni e cattivi ecco no c'è una sfumatura per cui i buoni non sono troppo buoni i cattivi non sono troppo cattivi un'altra tematica che va poi a ricondurre tutti i film di Miyazaki è il fatto della zona grigia quello che Levi chiamava la zona grigia ovvero il cattivo appunto non è totalmente cattivo e il buono non è totalmente buono noi vediamo che il Miyazaki spiega perfettamente cioè i personaggi sono tridimensionali sono spiegati benissimo dal punto di vista psicologico vediamo tutto quello che muove il cattivo ad essere cattivo il perché l'ha portato ad essere cattivo e non non vuole giustificarlo ma vuole dargli una causa e vuole spiegare perché non bisogna fare determinate cose perché sennò si diventa come lui non c'è il cattivo puro non c'è il per dire non lo so lo scar di del re leone che è cattivo punto e basta voleva diventare re scar diamo cioè però non ha non ha quella società psicologica che dice Mufasa per dire mi ha fatto questo sono stato relegato così no lui è un cattivo puro o la strega di Biancaneve per dire ma lei odia la bellezza di Biancaneve sì basta ma è sterile come cosa invece Miyazaki tutti i cattivi sono costruiti per essere per essere spiegati sono anche mentalità diverse cioè la mentalità europea rispetto a a quella asiatica sono leggermente cioè trovo che la mentalità asiatica sia nelle opere aperte virgolette cosiddette per bambini sia comunque superiore rispetto a quella europea dove quella europea vede il cartone o comunque in quegli anni relegava il cartone a quello che era una semplice opera di intrattenimento per quelli che sono che erano i bambini appunto che cioè tu guardi un cartone perché sei bimbo è vero lì in Giappone o non in Giappone comunque nel mondo asiatico il cartone animato non è inteso come puro spirito di intrattenimento del cartone ma cerca comunque di raccontarti diciamo un romanzo disegnato no? è un po' come il fumetto di Topolino e la graphic novel sono due cose separate già la mentalità europea è più quella del ah guarda cose puffettose che si muovono e il bambino le guarda indipendentemente dalla profondità della morale che riescono a trasferire e invece sull'opera della graphic novel che già si a prima vista la vedi ah è per bambini perché è un fumetto ma se vai ad indagare in quel fumetto oltre all'aspetto ci sono anche dei sottotesti delle sottotrame e così via lancio l'amo prima vogliamo tirare un po' le somme allora parlo io che te l'avevo l'ho proposto lo consiglio sì assolutamente è un film da vedere con la famiglia a qualsiasi età per qualsiasi condizione ed è un film su cui poi riflettere molto su anche gli aspetti più piccoli di questo film io qua ritorno sul voto perché qua mi sento di dargli un nove e mezzo sotto tutti gli aspetti assolutamente il dieci non esiste il nove e mezzo diamoglielo no io non sarò così alto vabbè aggiungo una cosa e getto l'amo poi al prossimo film beh intanto dobbiamo dire la nostra sì 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 sei fissato con gli spoiler eh Bavo dando in voti dando i voti io per esempio Orwell davo un sette e mezzo a questo mi spiace Paolo non vado sopra al sette perché perché mi è piaciuto è intelligente però secondo me ha fatto di meglio Miyazaki e per quello che ho detto prima un po' questo limite dell'animazione del personaggio che ricorda molto Margot comunque quei personaggi giapponesi che a parer mio hanno poca personalità però è coraggiosissimo per esempio contraddice le sacre scritture questa è una cosa che non si è mai vista in un cartone voglio dire che arrivi un progetto avevano anche più libertà di quella che la versione europea e adesso che mi è venuto in mente il gancio che hai visto tu con Guerre Stellari è vero Ray all'inizio del risveglio della forza va a beccare i pezzi delle navi eccetera e ricorda molto il bagarre di Nausicaa quando va nell'OM prende l'occhio eccetera è vero similissimo detto questo io in Nausicaa ci ho visto degli aspetti di Guerre Stellari del buon George Lucas buon non tanto del George Lucas comunque di una volta non vado sopra il 7 Paolo non avermene io mi sento mi sento di dire che sicuramente lo consiglio a tutti coloro che amano i film d'animazione i film d'animazione giapponese non può mancare nella collezione di un di un amante di quello che il maestro Miyazaki personalmente tra i due adattamenti e le due traduzioni preferisco di più quella vecchia rispetto a quella nuova ma questo è uno stile mio cioè un mio gusto personale sicuramente è un film d'azione cioè è un film d'azione è un film d'animazione che comunque ha un getta quelle che sono le basi certo non è perfetto dal punto di vista visivo grafico quel che volete ma comunque ci sono le ottime basi interessanti per per un qualcosa che successivamente arriverà nei futuri film di Miyazaki io non mi sento di dare un voto numerico mi sento semplicemente di consigliarlo a tutti coloro che hanno vogliono vedere un bel film d'animazione e quindi ovviamente a tutti i collezionisti di Miyazaki ma quello è inutile consigliarli già ce l'hanno però chiunque non l'abbia visto glielo consiglio sia non l'ho trovato così bambinesco ci sono certe cose che hanno inquietato me a 30 anni figurati non è assolutamente un film bambinesco no no ma è chiaro nel senso quando è stato detto per tutta la famiglia io per certe scene da piccolo avrei pianto beh io non so cosa si trovino davanti i bambini di oggi nel senso che hai dei palinsessi dove non ci sono filtri cioè se uno ha in mano un telecomando di uno di queste piattaforme vede qualsiasi cosa quindi se c'è un'animazione come Nausicaa tanto meglio almeno si vede qualcosa che magari un po' lo spaventa un po' mette un po' di adrenalina non è una critica cioè nel senso è un suggerimento la mia sì comunque è una critica alla quantità di roba che c'è vabbè detto allora aspetta Fede ti faccio il cappello introduttivo perché c'è un aspetto di Nausicaa io volevo dire una cosa però ancora che secondo me questo film poteva durare 20 minuti in meno almeno 15 minuti di scontri c'è un momento di scontri che non finisce più verso la fine prima che arrivi l'esercito di tafani giganti e arrivi il guerriero anticoli come si chiama quello lì che polverizza tutto fa casino eccetera il titano c'è un momento di scontri tra le varie popolazioni che dura tantissimo e non si capisce quasi niente quindi per me poteva durare un 15 minuti in meno tutti erano anche 15 minuti giustifico col fatto che erano tempi anche diversi quindi avevano tempi nel senso avevano tempi di animazione diversi ed era anche qualcosa anche di un po' sperimentale non era mai stato fatto quindi hanno detto usiamo sbagliando toppando perché in certe cose come hai detto tu Fede si sente l'età più che altro in certi dettagli in certe cose si sente l'età però comunque è bello io allora qua appunto finalmente getto allora l'amo per il prossimo film facendo questa piccola introduzione un aspetto di Nausicaa di cui non abbiamo parlato è la colonna sonora importantissima di un artista che per me non è il morricone giapponese ma è uno dei migliori creatori di colonna sonora nonché musicista che ha collaborato con tra i più grandi registi che Joe Isaishi Joe Isaishi ha poi seguito tutte le opere di Miyazaki firmando le colonna sonora e creando delle delle sinfonie dei brani musicali di una semplicità disarmante ma di una potenza allucinante una cosa che consiglio è di andare a cercare perché c'è per intero su YouTube il concerto che hanno fatto per lo studio Kipling per il 25esimo anniversario al Budokan a Tokyo cercatelo perché è un concerto di dimensioni inenarrabili e di una bellezza sconfinata rossa Paolo devi crossare a un certo punto devi passare la palla a un certo punto ok Joe Isaishi questo è il mio il mio assist benissimo io a questo punto mi sono ritrovato anche per la gioia di Andrea comunque in un vicolo cieco perché a quel punto mi sono ritrovato un film di animazione giapponese dell'84 quindi così come la guerra lampo cito questo episodio già fantastico potevo o muovermi sull'anno oppure sono riuscito a trovare una mia o lasciare il trio e purtroppo ho trovato un mio gancio che era fammelo dire Kia Shan La Rinascita è un film live action del 2004 che ricordava però ricordava tantissimo 1984 di Orwell tant'è che inizia con il conflitto addirittura vedevo il trailer conflitto eurasia proprio uguale però molto più tamarro è un film d'azione le ho visto un pezzetto ho visto questa roba era un live action proprio sembrava ti ricordi Tron che a me è piaciuto un casino Tron però Tron è bellissimo però un Tron senza lo spirito del Tron quello con Jeff Bridges è una roba tamarra giapponese da un certo punto esplode qualsiasi cosa si scontra qualsiasi cosa ci sarà Michael Bay asiatico ma peggio ma peggio proprio una roba un frastuono pazzesco al che ho detto Fè purtroppo Paolo Bergonzi vuole fare il furbo quindi prima o poi lo colpirò forte alle spalle bene bene da cattivo con una sedia mentre si fa il bagno come Homer Simpson questa volta accetto il suo suggerimento Joe Isaishi ha firmato le colonne sonore dei film di Kitano io ho detto beh io di Takeshi Kitano non ho visto quasi nulla per cui ho colto la palla al balzo ho detto guardiamo Kitano perché non credo di adesso lo posso dire non credo di poter vivere tanto allegramente credendomi un un appassionato un conoscitore un amante del cinema per cui ho accettato questo passaggio sono andato su Takeshi Kitano di cui avevo soltanto visto Zatoichi del 2003 e avevo visto dei pezzetti di Brother ma l'avevo visto proprio l'avevamo passato su una pezzetta marro Brother ma non l'ho visto tutto non sono riuscito molto bello però il primo film americano così è esatto e allora a quel punto ho detto dai vado su questo io ricordavo benissimo questa locandina del film che è Sonatin o Sonatine che si voglia dire un film del 1993 di Takeshi Kitano di cui ovviamente prima di vederlo mi ero guardato qualche recensione qualcosa considerato davvero un gran film ho detto vabbè guardiamolo e brevemente la trama e la storia di questo Murakawa è un film diretto e interpretato da Takeshi Kitano la storia di questo Murakawa che è questo membro di un clan Yakuza di successo come tipo che appunto svolge le sue mansioni di minacciare un ristoratore di un ristorante per farsi pagare il pizza eccetera e viene convocato dal grande capo clan del suo clan per essere mandato in una missione sull'isola di Okinawa per aiutare il fratello del capo clan che non vede da molto tempo di un altro clan appunto che è in guerra con un terzo clan che si chiama il clan di Anan sull'isola di Okinawa Murakawa Takeshi Kitano non è molto propenso a fare questa missione perché dice l'ultima missione ho perso tre uomini si consulta con i suoi uomini decidono di andare la stringo molto arrivano a Okinawa vengono accolti tra l'altro come dei turisti all'aeroporto su un pulmino di quelli per turisti dove c'è addirittura una guida che parla a questi uomini che devono fare i mafiosi andare a ammazzare la gente li accolgono dicendogli se volete ci sono anche dei gelati o delle bibite vestiti proprio da turisti con le magliettine colorate i cappellini eccetera e vanno nel loro gli danno un quartier generale un loro ufficio e scopriamo che un un membro fidato di Murakawa lo tradisce facendo mandando una spedendo una bomba all'interno del quartier generale prima ancora che affrontino Grandi Anan prima ancora che succeda qualsiasi cosa succede un tradimento questo quartier generale salta in aria in quel momento c'erano tre uomini che muoiono di Murakawa Murakawa ha deciso comunque ad andare avanti vogliono tornare se non sbaglio a Okinawa vogliono tornare a Tokyo da Okinawa e vanno in un ristorante a cena per discutere di questa cosa di come procedere dopo questo attentato e vengono nuovamente attaccati da tre sgherri con dei mitragliatori in mano a sorpresa muoiono quasi tutti rimangono in sostanza vivi in quattro tre Murakawa e due dei suoi uomini più il quarto uomo è uno di quelli che li ha accolti sull'isola di Okinawa quindi è lo zio è uno degli sgherri dello zio il ragazzino quello un po' scemo e rimangono loro quattro che vanno per rifugiarsi in un paesello di mare un paesello una specie di catapecchia sulla spiaggia a rifugiarsi per un po' per sfuggire a questi a questi torti a questa situazione molto delicata per nascondersi perché li vogliono fare fuori sono rimasti solo più in tre e passano a questo punto il film cambia da una specie di gangster movie diventa prettamente un film d'autore onirico vivono questo periodo su questa spiaggia in questo posto in una maniera molto allegra molto divertita molto rilassata dove si lasciano andare dopo un po' di tempo a dei giochi anche fammelo dire fammene raccontare uno Murakawa all'inizio li fa giocare a una roulette russa molto particolare che si chiama Mora Cinese lui prende una pistola svuota il tamburo mette un proiettile quando in realtà il proiettile se lo imbosca con un trucco da prestigiatore però questo non lo sappiamo tra l'altro sfugge anche allo spettatore ha di fronte gli altri due dei quattro sopravvissuti due più giovani che stavano litigando si stavano menando di chi è più furbo chi è più coraggioso eccetera arriva lui da anziano diciamo e gli fa questo gioco dell'amora cinese dove prende sta cosa fa questo giro di tamburo inizia a sparare punta la pistola a uno dei due ragazzi e bam e spara prima uno poi all'altro poi di nuovo all'altro nel senso fa andare il grilletto a vuoto il grilletto a vuoto gli spara poi si punta la pistola in testa in testa non spara e scopriamo poi che il tamburo era vuoto ma riesce in qualche modo a ingannarli vanno avanti a vivere questo periodo sulla spiaggia diciamo che l'avvenimento più importante in questo periodo su questa spiaggia è l'incontro casuale di lui di Murakawa Takeshi con una prostituta e un cliente della prostituta in una macchina in cui da bravo eroe interviene perché questo cliente sta maltrattando alla prostituta lui interviene puntualmente il bullo gli dice io ti distruggo ti picchio eccetera Takeshi gli spara lo uccide la prostituta va a vivere con loro e prosegue ancora per un po' questo periodo in modo molto nel senso è corretto però la cosa è che la prostituta va a vivere con loro mi ha fatto onestamente sorridere quando l'ho visto perché ho detto non ci dai cioè questo vai Paolo questa non è una una giunta e io ho messo una cosa nel senso che quando questa prostituta sta per essere violentata anzi viene violentata non ci fa vedere la schiena Takeshi non interviene Murakawa non gli frega assolutamente nulla quando poi gli passa vicino e viene sfottuto dallo stupratore lui allora poi si incazza però in maniera abbastanza contenuta quando sta per venire alle mani lui prende gli spara e allora poi salva la prostituta quindi in realtà a Murakawa non gliene frega assolutamente nulla di questa prostituta o di quello che sta succedendo quando poi viene chiamato in causa lui allora decide di intervenire e poi la prostituta va a vivere con loro a quel punto a quel punto si ripresentano dei messaggeri del mondo che Murakawa ha lasciato andando su questa spiaggia degli sgherri dei vari clan in questa casupola in questa catapecchia sulla spiaggia e si scopre che lo zio appunto il capo clan amico del clan di Murakawa in qualche modo vuole ritirarsi vuole lasciare a uno di questi il clan e arriva a quel punto un sicario mandato dal clan di Anan per fare fuori tutti insomma e questo sicario fa fuori tutti quelli che rimangono del clan inviato a Okinawa del clan dello zio di Murakawa tutti gli uomini arriva anche nella loro casupola sulla spiaggia uccide uno dei due giovani tra l'altro di quello che ha tradito e a quel punto Murakawa sente il bisogno di in qualche modo per orgoglio ricorda molto un samurai comunque come personaggio di restituire il appunto il torto l'invio del sicario e va ad attaccare con i due o tre uomini rimasti direttamente nel lussuoso appartamento nel lussuoso palazzo di questo boss la gang rivale sgominandola distruggendola ovviamente dopo aver ottenuto delle informazioni tramite tortura da uno da uno degli uomini per capire l'ubicazione dove è Anan eccetera sgomina questa gang rivale il film finisce che in teoria il nostro eroe ha vinto torna nella sua casetta sulla spiaggia con questa bellissima prostituta proprio bella veramente una bellissima ragazza non aggiungo altro insomma vi lascio vedere il film per apprezzare uno credo dei dettagli più importanti di questo film cioè uno delle veramente vabbè lasciamo perdere non la spoileriamo questa non la spoileriamo questo eroe tornato vittorioso solitario in questo paesaggio crepuscolare dell'isola di Okinawa prende la pistola se la punta la testa e si spara ridendo tra l'altro ridendo tra l'altro davvero un film che parte come qui partirei subito con dei commenti a caldo parte come a parte che vabbè parte come un gangster movie in realtà ancora prima di un gangster movie sembra proprio un un film d'autore a sfondo sociale con questi personaggi questo ristorante giapponese un po' squallido ma capisci quasi subito che stiamo parlando di mafiosi usa questo questo aggancio questo punto di partenza dello scontro tra gang per diventare comunque davvero un poesia un film poetico un film astratto un film fatto di emozioni tra l'altro un film che inizialmente leggevo alcune cose su Takeshi grazie al professor Bergonzi che mi ha prestato un bellissimo libro su Takeshi Kitano che il il cinema di Takeshi Kitano di come alzalo alzalo facci vedere la parte più interessante della copertina la parte più interessante è questa e tra l'altro perché Kitano è anche pittore ricorda mi diceva una cosa che ho riscontrato tantissimo in questo film in qualche modo pur senza aspettartelo Kitano riesce a trasformare qualcosa di brutto in bellezza e anche attraverso le sue le sue immagini le sue inquadrature inizialmente a questo film quando ho iniziato a vederlo non gli avrei dato non dico due lire ma gli avrei dato molto poco perché è un'immagine molto squallida all'inizio proprio le inquadrature lo sfondo inizialmente elimina la profondità di campo gli ambienti sono proprio squallidi sono piatti sono monotoni e invece tutto ciò mano a mano si trasforma in bellezza riesce a fartelo sembrare bellissimo questo mondo inserisce degli elementi con essenzialità e tempismo ma un tempismo davvero di quando tu stai cominciando non stai ancora cominciando ad annoiarti lui riesce a sorprenderti con qualcosa e nonostante quella che sembra come dicevo una povertà di mezzi invece presenta delle inquadrature e dei momenti tecnicamente davvero impeccabili cioè consiglio su tutto una scena meravigliosa di un tramonto sull'isola di Okinawa che è qualcosa che ti toglie il fiato quel momento in cui devono scappano da quell'ultimo attentato al ristorante devono seppellire uno dei loro che hanno provato a salvare ma è morto nel viaggio in auto mentre scappano in questa casetta sulla spiaggia e lo seppelliscono su un tramonto di sfondo che è eccezionale poi cito il critico Paolo Merighetti che definisce lui questo cambio da gangster movie a diciamo film d'autore poetico lo definisce un cambio da gangster movie a beach movie un film sulla spiaggia che appunto ho letto poi in questo libro che mi hai prestato essere uno degli elementi principali trattati da Takeshi Kitano nel suo cinema il mare e la spiaggia appunto ritorna tantissimo e il personaggio del samurai mi ha dato anche qualche imbeccata a questo libro sulla storia della yakuza che deriva arriva dal 1600 dai samurai che non riuscivano che non riuscivano a trovare lavoro erano samurai che non riuscivano a trovare lavoro in pratica esatto non venivano accettati dalle famiglie nobili e in qualche modo se la dovevano cavare da soli e hanno formato queste gang che nel corso del tempo sono diventate yakuza e lo stesso Takeshi definisce la yakuza sì come persone magari assassini delinquenti feroci ma in qualche modo persone portatrici di un'integrità morale che è quella che Murakawa dimostra lo dimostra nei confronti della prostituta lo dimostra perdonando il ragazzino che l'ha tradito perché dubito che non se ne sia accorto gli fa solo per spaventargli gli fa il giochino dell'amora cinese ma non li uccide non li giustizia li perdona e alla fine e qui secondo me ci possiamo discutere per un'altra ora il motivo per cui lui compie quel gesto che già aveva pre aveva sognato dopo il gioco dell'amora cinese in cui lui si punta la pistola scarica lui ha un incubo in cui quella pistola che si punta la testa non è scarica e sparandosi si uccide esce il sangue proprio ed è poi la locandina di Sonatim tra l'altro quell'immagine ed è la stessa che ti restituisce alla fine del film quel sogno premonitore ce l'ha verso metà film io la piccolissima cosa che mi sento di dire su Takeche Kitano pur non avendo letto il libro ma avendo visto parecchi film con Takeche Kitano è che diciamo molto probabilmente da Sonatim lui ha capito in che ruolo si trova più comodo diciamo che fare lo Yakuza gli riesce particolarmente bene anzitutto anche perché ha questa maschera facciale decisamente strana per essere un giapponese o comunque un asiatico quello che è poi soprattutto se non sbaglio Kitano ha avuto anche un incidente dopo Sonatim dopo Sonatim eccolo infatti dopo quest'incidente stradale poi fortunatamente per lui ovviamente invecchiando ha assunto sempre di più questa maschera facciale con anche questi tic con il tic dell'occhio sì questi tic che lo lo hanno trasformato in una in una immagine quasi iconica di quello che è lo Yakuza o comunque il duro o comunque quello che sta zitto non ti dice niente però sotto sotto sai che c'è qualcosa pur Kitano basta che ti fissa non dice un cazzo mentre si mangia dei ravioli ti guarda e fa tu dici mazzate o è un attore della Madonna o non sta recitando tutte e due sì è un po' ipotesi è un po' come la faccia di De Niro invecchiando De Niro lui De Niro ti guarda pensa ai cazzi suoi è un cane che beve whisky inizia a ridere tu dici minchia dategli un Oscar porca puttana quanto sei bravo non rida neanche Kitano non si muove sì ti guarda con sto no c'ha la risata sardonica la sua risata di Kitano quando gli punti neanche così fa sì quella della mora cinese è fantastico sì sì è anche la stessa risata che utilizza anche nei ruoli successivi sempre dove fai il bastardo cattivo di puttana prima tipo di darti un colpo a mano tesa sulla carotide e tu muori soffocato è quella un po' è un po' come il classico stilema del duro no noi in Europa a livello italiano ad esempio tipo Bud Spencer e Terence Hill no Bud Spencer ha sempre questa questa faccia un po' cagnesca lui non diceva un cazzo ti guardava un po' come Cannavacciuolo no ti guarda non dicono un cazzo e tu sai già e così diciamo che Kitano è riuscito a mettere sia in Sonateen sia in altre in altre opere quel qualche cosa in più che lo rende un film apprezzabile e comunque un attore è anche apprezzabile per non solo gli amanti dell'action o della Yakuza story e così via ma riesce a metterci è un poeta riesce a metterci quel qualcosina di profondo che se tu vuoi cogliere cogli maledetto cane abbiamo finito? comunque è una cosa velocissima che comunque Kitano riesce a mettere sia la parte d'azione super super cazzuta e quindi se tu vuoi cogliere quella parte tra virgolette definita possiamo definire poetica o profonda la cogli se invece vuoi limitarti a farti solamente quella che è una nuotata superficiale e goderti solamente quello che è un ipotetico fin d'azione puoi farlo in ambedue i casi sia il palato che predilige l'azione poca profondità sia colui che predilige la profondità sono ambedue soddisfatti da quello che è Kitano punto vai beh sicuramente vuole creare scusami Paolo parla tu vai parla tu no quello che volevo dire su Kitano che io è un regista che non adoro di più ce ne eravamo accorti lo amo carnalmente anche non è mia ecco perché è il tic esatto è colpa mia lui in un'intervista che vedi un bel po' di anni fa per una tv francese lui per quanto riguarda il suo approccio con la sceneggiatura che tra l'altro riscrive in continuazione lui la sceneggiatura finale la scrive quando ormai il film l'ha montato perché lui è anche montatore tra l'altro e dice che solo lui può montare i suoi film e noi ci crediamo la cosa la la sua la sua visione a livello di storie questo poi lo vediamo molto bene anche in Nana B che ha vinto anche la palma d'oro a Venezia lo vediamo molto bene anche nel Il silenzio sul mare film stupendo mi pare precedente precedente è il film precedente di Sonatine lui contrappone lui immagina un pendolo e noi lo vediamo molto bene sia nel montaggio che nella scelta delle inquadrature questo pendolo che va tra amore e odio scene molto violente molto crude tra l'altro riprese molto molto statiche a volte dove non ci fa vedere esattamente cosa sta succedendo però è bravissimo nel creare quel mattone nello stomaco a scene invece molto delicate o molto spensierate questo pendolo fa sì che il film vada avanti e prosegua nella sua narrazione questo qua è un insegnamento molto importante perché se tu non dai energia da una parte il pendolo non potrà muoversi con con la stessa energia dall'altra parte e questa cosa qua secondo me è un insegnamento registico molto molto importante invece per quanto riguarda il film la scelta dei colori che anche tu hai citato il tramonto Okinawa Kitano ha scelto Okinawa ha scelto i colori di Okinawa la scelta delle magliette la scelta di determinate cromie della pasta per ricreare quello che sono i colori di quest'isola stupenda che ha che ha visto delle scene raccapriccianti durante la seconda guerra mondiale e e ha ricreato proprio quello che è la sensazione di questa di questa bellezza sconfinata che ci che ci porta tra l'altro in riva al mare con queste queste spiagge stupende lui la chiama la tinta Okinawa ha un colore Okinawa pare del suo della sua terra proprio del terriccio della terra di Okinawa la chiama tinta Okinawa e la cromia a cui tende maggiormente questo film è il rosso sì lo vediamo anche nell'altra locandina quella del pesce che ha questo questo tramonto dietro questo questo pesce conficcato in un arpione l'altra cosa che devo dire per quanto riguarda la recitazione la recitazione lui ha fatto delle scelte sia di montaggio che di riprese dove molto spesso l'azione non viene ripresa ma vengono ripresi altre persone che non stanno parlando sì è un accento molto particolare c'è un voiceover c'è un voiceover incredibile all'inizio c'è un cameriere che parla con una persona in un bar e segue la camera segue Kitano che sta camminando per strada cioè è un voiceover veramente che ti mette ti butta proprio fuori un attimo ma anche quando c'è la riunione quando c'è la riunione che vengono presentati i ragazzini gli nuovi jacuzza dove chi parla non viene mai ripreso vengono sempre ripresi altri e questa cosa qua sempre in questa intervista qua di questa tv francese lui viene posto a questa domanda mi fa ma per quanto riguarda le riprese degli attori e robe del genere visto che lui utilizza anche spesso sempre gli stessi attori lui ha degli attori fetticcio che sono tutti quelli che hanno partecipato a Sonatine e vengono poi riproposti in tutti i suoi film un po' anche richiamando anche un po' la comedia dell'arte come diceva Andrea per quanto riguarda anche la maschera e creare questo personaggio che è un po' anche stereotipato sotto certi aspetti viene posto e mi fa ma semplicemente se l'attore non mi piace come recita o non non mi soddisfa lo riprendo di spalle o semplicemente non lo riprendo che bello che geniale stare sulle palle a Chitano e fare un suo film veramente guarda no no sei minuto addio poi faccio montaggio non ti preoccupare stare sulle palle questa poi questa poi la chiudo e questa c'è anche nel libro che ti ho passato su Takeshi Kitano i primi film il primo film che ha fatto è Violent Cop dove è stato un po' catapultato nella regia che è stato inizialmente un flop perché Kitano arrivava come attore comico di un duo comico che erano i Beat Takeshi dove facevano una comicità spicciola è stato buttato in questo film come protagonista poi come anche come regista è stato un flop perché la gente si aspettava un film comico con lui e in realtà non è stato così un po' come è successo con G-Kan Renato Pozzetto in esatto Signore Sì la roba di G-Kan Lobbit no lui cosa ha fatto Natale a Mordor Andre questo ce la possiamo rivendere proprio siamo a posto lui ha avuto dei conflitti con il direttore della fotografia con degli operatori con l'operatore con l'operatore non andavano d'accordo questo gli girava le cose come voleva lui e Takeshi diceva no io lo voglio girare in questo modo e questo gli muoveva la camera continuamente io fa non la voglio statica no così non si fanno i film mi ha detto l'operatore proprio perché Takeshi tra l'altro era la prima esperienza registrica e dato che Takeshi Chitano non è René Ferretti di Boris esatto e lui semplicemente cosa ha fatto l'ho licenziato cioè lui quello che ha lo fa diventare veramente un regista vada non la voglio interrompere professore non l'ha licenziato ha concluso il film e all'intervistatore gli ha detto quel film l'ho concluso per il film successivo non ho mai più chiamato quest'operatore ma perché? perché doveva essere diretto da quel Fukuyawa Violent Cop e c'era già avevano già girato delle scene quel regista aveva già girato delle scene e aveva la sua troupe quindi lui si è trovato a dirigere tra l'altro gente tipo quest'operatore che aveva già fatto 30 film in prima dello stesso regista e boom aveva quella formula lì e faceva quello punto storico lui poi ha creato l'office Kitano tra l'altro lui vabbè altra piccola perla lui è Takeshi Kitano come regista e beat Takeshi come attore al doppio nome è anche un ego veramente molto limitato è Takeshi Kitano attore regista montatore sceneggiatore pittore scrittore ha scritto anche dei romanzi pensa che il cubo lavora con uno così star tutto no 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 lui infatti ed è anche una star ed è una star no ma pensa a lavorare cioè lavorare con uno così sei un turnista fai esattamente quello che dice lui basta allora lui in realtà non ha sempre le idee molto chiare però è una persona che ha la sua visione e te la sa trasmettere un'altra un'altra caratteristica dei film di Kitano che sono era forte forse una delle caratteristiche essenziali sono i silenzi lui fa percepire il silenzio è un attore è un protagonista di tutti i suoi film e lo sa utilizzare benissimo tant'è che vi consiglio di andare a vedere il silenzio sul mare sono due ragazzi sordomuti è la storia dei due ragazzi sordomuti dove il silenzio è proprio è permeato sono una bruttissima persona di tutto è permeato di tutto tra l'altro anche lì c'è colonna sonora di Joyce Aishi dove ah ecco un'altra cosa per ricollegarmi a Federico poi vi lascio la parola Kitano nei film gioca molto a sottrarre non aggiungere lui cerca l'essenzialità questo anche nella colonna sonora perché il in Sonatine che è il film che poi ha creato questo duo un po' come è stato poi con Miyazaki tra Kitano e Joyce Aishi l'autore della colonna sonora quando si sono messi a tavolino per decidere che music mettere lui è andato per sottrazione quindi non per dare alla colonna sonora cioè far raggiungere al film un di più dalla colonna sonora ma andare a sottrarre per andare a creare un ambiente unico che fosse esattamente che si compenetrasse che fosse un unicum ecco come l'amaro e cedo la parola a Federico la colonna sonora è meravigliosa scusate se ti interrompo Fede vai finiamo cioè sì io non ho più non ho più niente da dire se non direi ti otrarrei già la conclusione ti direi io lo cioè nella mia iconografia l'ho definito il padrino giapponese ma proprio il padrino nel senso grande tanto grande quanto scorsese grande quanto Coppola grande quanto tutti questi qui e soprattutto uno che in quegli anni nel 93 ha voluto andare un po' contro tendenza al cinema commerciale che come sappiamo in quegli anni era fatto di c'erano tante sparatorie tanti inseguimenti i personaggi della mafia sono diventati i personaggi più importanti a cui in qualche modo riflettere le nostre giovani vite ci siamo visti tutti quanti abbiamo sognato di essere dei gangster dei film degli anni 70 80 90 lui tra l'altro in questo libro aspetta chi è che distrugge ha distrutto un film che ero contentissimo che avesse distrutto ha dato una sua opinione intanto ha dato una sua opinione personale a quei bravi ragazzi dicendo che è un film stupendo tutto quello che vuoi ma che era un po' troppo lungo e poi ha demolito uno ma adesso sono troppo curioso cosa è uscito nel 90 me lo devo ricordare me lo devo ricordare perché questa è proprio bella era scusate se volete vuoi dire la tua nel frattempo che sì io cerco allora sicuramente è un film che consiglio a tutti gli amanti dei film giapponesi o comunque asiatici e anche a tutti ovviamente gli amanti di Kitano è carino ed era un Kitano diciamo acerbo perché magari come me l'ho già visto maturo nell'età infatti il primo film di Kitano che ho visto è stato Zatoichi e mi piacca un macello vabbè chiaramente c'era in Zatoichi c'era tutto il livello di mazzate come abbiamo detto prima spadate cose brutte dita che saltavano arti e quant'altro ma anche quel livello di poesia è la stessa e diciamo è un'evoluzione di quello che ho potuto vedere nel Sonateen perché giustamente come ha raccontato Federico il film è un po' diviso in due la prima parte sembra il classico film gangster sulla Yakuza mentre la seconda si va ad evolvere in qualcosa di più onirico diciamo più introspettivo una ricerca un po' così comunque io l'ho visto perché per il perché è obbligato abbiamo obbligato a guardarlo fondamentale l'ho visto l'ho visto in conformità con questo progetto però l'ho trovato carino non l'ho trovato male e alcune parti ho anche sorriso anche perché diciamo che ha un po' anche tutti quelli che sono i personaggi classici che vediamo nel cinema asiatico ci sono gli Yakuza poi c'è ad esempio lo sfigato quello rincoglionito tutte quelle che sono le maschere che comunque sono le stesse che vengono ripetute cioè fondamentalmente in qualunque film asiatico anche perché specie di film giapponesi proprio perché loro non hanno l'abitudine di dire porca puttana stronzo pezzo di merda o comunque fare delle esclamazioni loro usano tanto la faccia quindi se Federico in questo momento cade un foratino sul piede strella dio mio strella dio mio in giapponese no in giapponese fa ma non non bestemmia ipotesi non insulta Buddha e quindi ha tutte quelle determinate maschere che si vedono anche le film suggestive adesso senza rilungarmi è un film che consiglio davanti di Takeshi Chitano va va chi ha ammazzato Chitano ce l'ho i film americani del periodo in cui Coppola gira il padrino parte terza 1990 e Michael Cimino ore disperate 1990 sono un disastro e così via li ha distrutti e poi anche sogni di Akira Kurosawa basta vedere il primo episodio dopo si dorme come sassi le scazzottate di quei bravi ragazzi di Martin Scorsese non sono male ma la pellicola intera è davvero troppo lunga bom direi che uno che le dice non te le manda a dire io dico è il padrino Sonatine è uno dei film più belli che io abbia mai visto lo dico con molta tranquillità mi spiace averlo visto a 40 anni e sarà arrivato a 39 anni a vederlo guarderò sicuramente Anna B e Dolls sono contentissimo ringrazio anche Paolo del suo suggerimento sono contentissimo di aver finalmente affrontato Takeshi Kitano che io avevo visto in Zatoichi come ho detto in Johnny Mnemonic essendo un grandissimo fan di David Polli ma perdonami ma in Johnny Mnemonic lui faceva quello con l'assassino con il Polli sì quello con l'Azo Laser esatto con il filo monomolecolare essendo un grandissimo fan di David Bowie avevo visto Furio che non mi ricordo che francamente ho trovato noiosissimo però detto questo io Kitano lo facevo come uno di quegli autori quelli che guardi film e dormi cioè non so come dirti non saprei non voglio fare nomi comunque uno di quei film lunghi e lentissimi dove non succede niente e invece davvero uno dei film più belli che abbiamo mai visto la colonna sonora è incredibile e non ha mai un passo falso io gli ho dato il mio massimo dei voti per me è nove addirittura massimo dei voti no io allora mi dico la mia su Kitano allora Kitano è un regista che chiunque dovrebbe conoscere perché è stato capace di creare film anche molto diversi tra loro e molto simili come tematiche e come anche come tipologie di regia perché si sa rinnovare in alcuni casi Sonatin è un caposaldo secondo me del cinema giapponese forse solo inferiore ad Anabi anche per i premi che ha vinto lui ha avuto una progressione in questi anni che è stata sconvolgente lui è il poeta forse il poeta cinematografico sa creare sensazioni sa creare con poco tantissimo ed è è è inarrivabile è veramente sì assoluto film poco conosciuto che infatti ho citato prima che secondo me è da guardare e il silenzio sul mare questo non perché non consigli gli altri film ma perché è un film che è passato sotto tono e un altro bellissimo veramente bello con una colonna sonora sempre di Joe Isaishi eccezionale forse la più bella che ha fatto per i film di Kitano è l'estate di Kikuchiro che è un film assolutamente da non perdere poesia allo stato puro poesia allo stato puro anni in cui uscivano Jurassic Park Terminator 2 Schindler's List io guardavo quei film lì a quell'età in quegli anni si muovono in branchi e tra l'altro a proposito di Nausicaa a proposito di Nausicaa Avatar è un film che secondo me ha preso tantissimo da quel tipo di ambientazione Avatar di Cameron Ma Nausicaa per ritornare a Nausicaa ha fatto scuola ha fatto scuola a molta cinematografia cioè allora quasi come Ari Aster quasi come Ari Aster la cosa pazzesca è che i giapponesi sono stati capaci di creare il cinema hollywoodiano cioè oltre agli europei faccio quest'ultima digressione Kurosawa ha influenzato George Lucas ha influenzato Steven Spielberg con i suoi film cioè Star Wars non sarebbe mai esistito se non ci fosse stata la fortezza nascosta la fortezza nascosta stavo per dirlo la fortezza nascosta è il film che ha ispirato Kurosawa c'è da dire che anche Star Wars ha colto a piene mani sia dai film asiatici sia dagli spaghetti western è una cosa che dicono una cosa che ho letto su questo libro di Kitano che Kitano non somiglia a nessuno no Kitano Kitano ha creato il suo linguaggio sei veramente grande se sei così sei veramente grande benissimo quindi siamo arrivati che culo io lo faccio io faccio io faccio il film allora dopo dopo questa dopo questa terzetto questo terzetto stupendo fantastico bastava dire che hanno mi hanno aperto il cuore hanno hanno ricordato mi hanno ricordato l'infanzia mi hanno fatto piangere perché in Nausicaa io tutte le volte ho il groppo in gola ho appena sentito due note di qualche brano di Joisa Ishi mi si scioglie il cuore qual è quest'ultimo film che va a mettersi in cima a questa scaletta che io ho adorato carnalmente allora in cima alla scala non c'è è sulla stessa scala forse è vicino ad essa quasi sicuramente fa parte del genere cinematografo sì stiamo parlando del film solo che Bava Bava sta per svenire sta morendo lentamente sulla sua sedia stiamo parlando del collegamento ovviamente come lo colleghi a Sonatin questo meraviglioso film di Ari Aster nome che è tutto un programma tramite ovviamente la compagnia di distribuzione e tramite ovviamente una lettura molto veloce dell'elenco dei film in distribuzione stiamo parlando ovviamente della compagnia Lucky Red stiamo parlando del film Hereditary di Ari Aster raccontiamo la storia di Hereditary Hereditary è la storia di una possessione punto poi tutto il resto grazie Andrea ci vediamo alla prossima puntata è la storia della possessione nonché della incarnazione del demone Paimon Paimon e uno sì mamma mia vai vai Paimon è uno dei sette re dell'inferno che viene riportato sulla terra tramite una setta il quale ha l'obiettivo di volerlo far reincarnare chiaramente il film non parte con questo presupposto qui infatti sembra più che altro un dramma familiare un dramma familiare e di una famiglia con molte difficoltà Bava se ne sta andando come pazzesco tu butti un film Bava scappa sarà andato a drogarsi? no ma guarda come si suol dire dovevo chiudere dovevo chiudere la finestra il grande caldo il grande caldo bravo dovevo chiudere la finestra perché stava cominciando a far freddo sono qui sono tornato c'è anche il grande freddo come film non ti offendere Andre però lo sapevo che scaturiva una reazione questa cosa ti ho interrotto vai no no non sono offeso cioè avessi fatto io il film mi sentirei offeso non l'ho fatto io io l'ho solo nominato quindi non sono colpevole al di là di tutto la prima parte del film sembra un dramma familiare questa famiglia che sono i Graham dove c'è la madre Annie con il marito Steve Graham interpretato da Gabriel Byrne che abbiamo visto anche nei soliti sospetti mille film Gabriel Byrne si ne ha fatti ha fatto anche i tre moschettieri ha fatto crocevia crocevia per l'inferno dei fratelli Cohen che è uno dei più belli che hanno fatto è vero Miller's Crossing credo fosse il titolo comunque abbiamo questa famiglia con i due genitori che sono interpretati da Gabriel Byrne e Tony Collette che hanno appunto due figli tra cui c'è Alex Wolff che fa il figlio maggiore e poi la figlia minore che è interpretata la Millie Shapiro noi notiamo fin da subito in questo in questo film che innanzitutto nessuno sta bene non stanno bene neanche il regista l'unico sano in questa famiglia l'unico sano in questa famiglia è il padre la madre ha dei problemi psicologici ha delle malattie mentali non si sa bene cosa sì cioè no io sto sto facendo un sottofondo io vai pure ah ok la madre ha dei problemi psicologici e psichiatrici e quindi per cercare di contestualizzare quella che è la sua realtà lei ha il lobby e che ha trasformato anche in lavoro che è quella di creare una sorta di casa delle bambole quindi lei tende a ripetere quelle che sono scene passate o attuali riproducendole in quelle che sono queste case di bambole abbiamo il figlio maggiore che sembra abbastanza normale insomma è un adolescente che va alle superiori gli piacciono le canne e la figa quindi è abbastanza nella naturalità delle cose e quella che ci fa più preoccupare di tutti appunto è la figlia la figlia minore interpretata ripeto da Mindy Shapiro che è molto strana tu appena vedi questa povera ragazza dici questa è ritardata ha dei problemi non sta bene infatti non parla mai si l'hanno vestita questo maglione questi abiti larghi slabbrati faccio una citazione di Bava l'unica cosa che dice soffre di boom boom burger è cheat Federico Bava malattia di boom boom burger ok sta figlia non si sa che abbia e tende a ripetere una cosa con la bocca ok che sembra la goccia del lavello che cade dici questa è ritardata comunque il film si va ad aprire con quello che è il funerale della nonna e subito noi no non è la nonna no 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 io ti sto ascoltando ascoltando ah perfetto comunque il film si va ad aprire con quello che è il funerale della nonna e subito non mi devo guardare perché se no mi distrago è un film di merda ne stiamo togliando le fatte la stanza di latrata comunque sto benedettissimo funerale di questa stronza di nonna che è nella barra e cos'altro volevo dire vedi mi ho perso il filo è morta si è un cadavere con evidenti segni di decesso morale fatto sta la famiglia è la storia della famiglia che va avanti dopo la morte della nonna la madre va a un gruppo di ascolto nel quale sfoga se stessa finchè un bel giorno il figlio maggiore Alex vuole andare a una festa ai classici parchi americani nella casa di qualcuno la madre che stronza subito gli dice caro tipo tu non vai a nessuna festa con droga e figa ma ti porti dietro tua sorella minore ritardata questo guarda se anche lei magari picca e si droga sì insomma una serata da perdere la testa la porta subito la porta immediatamente lui piuttosto della figa non vede l'ora partono e vanno viene detto più volte nel film soprattutto dalla madre e anche nelle scene che questa povera anima di Charlie che è la ragazzina ha un'allergia alle arachidi e la prima scena che noi vediamo in questa benedettissima casa americana è uno che taglia le noci scusa è uno che taglia in maniera estrema un quantitativo folle di noci su un tavolo la prima cosa che vedi nelle tipiche case americane ci si diverte tagliando le noci quindi già nasiamo che qualcosa andrà di merda finalmente arriva i due arrivano in questa casa lui inizia a farsi le canne lei non viene praticamente cagata a nessuno anche perché sembra un po' un uomo brutto la ragazzina vestita anche male e lei addenta immediatamente una torta con le noci inizia subito ad avere una crisi allergica il fratello si caga addosso dice oh mio dio che succede la porta via la porta via subito e si stanno dirigendo all'ospedale sulla strada per andare all'ospedale in quello che è un pieno shock anafilattico la ragazzina non riesce più a respirare è seduta dietro si affaccia dal finestrino e bam succede il delirio viene decapitata da un palo a bordo della strada che sembra una strada di campagna questa scena al di là di tutte le cose l'ho trovata decisamente molto forte più che altro ho apprezzato tantissimo la bravura recitativa di Alex Wolff che fa il fratello maggiore che in quella scena lui non si volta mai indietro non si gira mai beh sì mi sarebbe piaciuto l'avesse fatto perché non si capisce niente cioè questo te l'avevo già commentato no no non voglio interromperti in realtà è una robina così è preparata benissimo quella scena intendo dire da come ti arriva da prima ti angoscia già quando lei è in macchina boom a te la parola quella poverina perde la testa no la poverina perde la testa è la cosa che fa il fratello totalmente sotto shock o perlomeno come lo leggiamo noi sotto shock col corpo decapitato dalla sorella nel sedile di dietro lui torna a casa parcheggia la macchina va su e si mette a letto che è una cosa normalissima e no e poi c'è arriva una spiegazione a parte il fatto che se lui decapitassi mia sorella non so come reagirei no infatti cioè potrebbe essere sia giustificabile come shock teniamo i commenti per dopo se vuoi se no qui ci apriamo subito un barco in Sofia te lo dico benissimo si va avanti la sorella è morta la famiglia ovviamente scopre il dramma c'è il funerale della sorella dopodiché la madre che ha già dei problemi psicologici segue sempre di più questo gruppo di ascolto dove all'interno del gruppo di ascolto incontra Joan che è un'amica che la supporta in questo momento di tragedia aiutandola interpretata da Anne Daud non so pronunciarlo ma è lei andando avanti veloce la madre inizia a fare dei giochetti stupidi con la tavola Ouija e altre robe per mettersi in contatto con quello che lo spirito è la figlia iniziano a succedere cose oggettive quindi dalla tavola Ouija che si muove le tende che si scostano eccetera e il film da dramma familiare si sposta in quello che è la storia la storia classica del fantasma e quant'altro vediamo poi seguiamo il figlio maggiore a scuola che continua anche lui cerca di andare avanti nella sua vita e anche qua c'è un'altra scena molto interessante nel quale mentre lui sta in classe quindi pieno giorno in classe a seguire una lezione vede il suo riflesso nella libreria che gli sorride dopodiché rimane bloccato in una posizione molto strana che sembra inspiegabile dopodiché inizia a sbattere la testa contro quello che è il banco come se fosse quasi un tentativo di possessione si spacca il setto nasale sul banco di scuola credo quasi l'abbiamo fatto un po' tutti per evitare di passare delle interruzioni fortissime stava interrogato tra l'altro è una scena molto forte perché la prima cosa che fa è alzare quello che è il braccio e indicarlo in una direzione molto specifica ecco perché lo fa non vuole farsi interrogare ecco esattamente il professore gli dice beh che cazzo vuoi dire e lui inizia a sbattere la testa contro il banco comunque le cose degenerano sempre di più tavola Ouija altre minchiate al che iniziano adesso sono ecco me lo ricordo benissimo il collegamento che c'è adesso tra le varie c'è la medium e c'è la mamma che prova a fare la seduta spiritica a casa e della seduta spiritica e della tavola Ouija ne avevamo parlato che inizia a fare determinate cose e a quel punto c'è solo più la parte finale perché in teoria ci sono quegli episodi quegli episodi onirici in cui il ragazzo dorme e sogna la madre che gli fa delle cose anche perché la madre dato che fuori di testa già prima aveva cercato di tra virgolette togliere la testa al figlio quindi e da lì sono usciti determinati tipi di disturbi perché sonnambula sì c'è la giustificazione che appunto lei sonnambula trovano un libro o comunque viene trovato un libro o qualcosa il libro della nonna il libro della nonna l'album fotografico dove le foto sue sono state sostituite con la presenza di Joan quella amica medium ok che è Joan è la seconda in capo in questa setta che vuole far reincarnare Paimon viene trovato in soffitta il cadavere della nonna sì che senza testa senza testa poverina ma come hai fatto a capire che Joan era di questa vice di questa setta cioè io quella proprio questa cosa me la sono interessa quando entra vabbè adesso termino la trama vai 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 approfondiamo trambusto trambusto casino casino finalmente vado al marito il marito dice l'unica cosa intelligente chiamiamo la polizia e poi prende fuoco cioè io quella battuta te l'ho voluta citare perché chiamo la polizia dopo un'ora e mezza di fin che la gente muore non gliene frega un cazzo di niente a nessuno viene gettato questo cazzo di quaderno magico tra le fiamme il marito lo fa dice chiamiamo la polizia boom il marito pia a fogo perché ha bruciato il libro del demone la madre da che è disperata tra l'altro bravissima Toni Collette a fare la madre della Madonna molto brava da che è disperata è totalmente a Tarassica perché capiamo che è stata posseduta finalmente si sveglia il figlio maggiore nel cuore della notte dopo che il padre ha preso fuoco tipo un cerino e la madre è posseduta e cammina come un ragno sulle pareti da qualche parte il figlio maggiore ecco attirato da quelli che sono dei rumori va in soffitta o comunque a un piano alto vede quello che il cadavere della nonna circondato ovviamente da mosche in decomposizione vede anche la madre che è posseduta in preda al terrore lui prende e si butta dalla finestra si butta dalla finestra e muore quello che si rialza è l'incarnazione del demone va nella casetta sull'albero nella casetta sull'albero vediamo tutta quella che sono quelli del gruppo di questa setta che sono ovviamente lo idolatrano in questa casetta sull'albero vediamo anche la madre che sta volteggiando e si sega la testa con non so se nella casetta sull'albero no 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 fermo un attimo la madre si sega la testa in soffitta quando guarda vede il cadavere della nonna la madre poi a quel punto dopo essere in sospensione la madre sul tetto segandosi la testa quando poi finisce questa scena la madre scompare lui la vede dalla finestra della soffitta vede la madre in sospensione volante che entra nella casetta sull'albero ok benissimo ecco questa parte me ne ero persa torna a sostanza volante pericolo costante il ragazzo ormai posseduto incarnato in questo che è un demone uno dei re dell'inferno però è ancora spaventato il ragazzo no è morto ma è spaventato quando gli mette la corona alla fine comunque c'è una faccia che non sa bene che cazzo sta facendo c'è una scena è un dettaglio molto piccolo ma si vede che dopo che lui vola dalla finestra si schianta per terra c'è una fumata nera un'ombra nera qualcosa tu credi un'ombra che lascia il corpo e la luce che entra la luce è il demone ok è questo re dell'inferno perché vediamo questa luce blu ma vaffanculo lo so vaffanculo vaffanculo veramente cosa devo stare attento il demone quindi concludendo finalmente vediamo l'incoronazione con questa corona di cartone eccetera vediamo anche una sorta di feticcio che potrebbe assomigliare a quello che un Gesù con a me sai cosa ricordava invece nel paese delle creature semvagie di Spike Jonze il ragazzino col mantellino e la corona mi ricordava un casino quello mi butto dalla finestra ma nessuno mi possiede tra i gatti randaggi nel circotare che ti posseggono però in maniera in maniera sessuale e mi manggiano anche abbiamo recuperato una di positiva della bambina della bambina del film poverina ma tra l'altro tra le foto del film non è così ma ah sì sei tu orrenno tra le non so che abbia sta poverina ma è proprio così cioè a parte la sindrome di boom boom burger come ci spiega il professor Bava povera bestia comunque al di là al di là di tutto finalmente viene incoronato e il film finisce così insomma lascia tanti dubbi lascia l'amaro in bocca e molte persone vedendolo hanno dato un bel di più tra le varie votazioni e comunque è stato decisamente tanto segato dalla critica questo film aspetta scusa se ti interrompo cito wikipedia cioè ti dico solo dei numeri faccio il big brother lo odiano tutti Rotten Tomatoes 8,2 su 10 tantissimo metacritiche che non so nemmeno cosa sia 87 su 100 Rolling Stone 87 su 100 non è così male minchia ma ha avuto anche 8,2 8,2 su 10 non è così male Rolling Stone gli da tre stelle e mezzo su quattro dei fuori di testa vabbè ma poi quanto cazzo ha guadagnato beh se ci pensi ha fatto 80 milioni leggo 79,3 milioni di dollari in tutto il mondo beh ma non è costato poco sto film al di là di tutto nel film comunque voglio l'unica cosa che mi sento di citare oltre alla bravura di Tony Collette Alex Wolf e anche Millie Shapiro perché è il suo piccolo ma anche Gabrielle Burr cioè comunque ci sono dei momenti in cui quel film io parlo poi dico la mia dimmi quando posso parlare no dico solamente che c'è un tanto non detto e non spiegato che viene raccontato per immagini e per dettagli lo so non sei piano cazzo ma che cazzo ho capito viene raccontato per immagini e per dettagli dico solo che se hai voglia e anche attenzione nel vedere alla prima alla prima visione lo dico non è possibile vedere certe cose certi dettagli vengono dati non vengono proprio registrati già dalla seconda inizia a notare determinate cose e comunque diciamo che io nel film ho apprezzato la recitazione ho apprezzato anche quel senso di inquietudine di profondo malessere che mi ha dato la prima parte del film anche perché pensavo si trattasse di un dramma familiare mi è un po' decisamente scaduto nella parte puramente orrorifica tranne giusto un paio di scene di impatto e comunque cioè il finale il finale è un finale che mi ha fatto sorgere dei punti interrogativi perché la prima volta che avevo visto ho detto che è sta merda detto onestamente questi qua mezzi nudi che si trovano nella casetta sull'albero e gli mettono la goroncina nel cartone non avevo capito un cazzo dopodiché sono andato io di mio a incuriosirmi a vedere determinate cose e a leggere determinate cose e ho capito certi collegamenti ma perché ho voluto approfondire io l'avessi visto al cinema mi sarei incazzato come una una biscia praticamente sono sti rincoglioniti sono gli stessi rincoglioniti che ribeccano in Midsommar che è il secondo film di questo regista che è un'altra veramente una presa in giro allucinante vai fede è tutto allora cosa io guarda da quando l'ho visto in realtà speravo di essere più energico si vede che speravo di essere morto dopo tre ore sono stanco morto e non ho voglia di fare il pazzo distruggendo sto film che in realtà già parlando con voi in privato questo lo possiamo dire già in parte avevo disintegrato comunque in maniera anche molto divertita beh prima cosa hai fatto bene a dirlo sto film perché io ce l'avevo in watch list questo film qui lo volevo vedere e in più leggi delle critiche estasianti in più Midsommar è un film che quando è uscito l'anno scorso cos'è l'hanno lanciato ne parlavano come di una l'ho voluto vedere sto Midsommar al di là della veramente della crudeltà della crudezza della come si dice in realtà chiude lo stomaco della delle feraggine dello schifo che fanno sti personaggi di questa comunità che sembra un po' The Village di Shyamalayan e al di là di quello il film è del tutto inconsistente questo speravo che dico magari il primo film questo sta andando scendendo inizi questo film ti prende un po' dici ok mi guardo uno di quegli horror che mi pigliano mi passano mi spaventano e dopo due ore di film amen tutto finito e invece no questo film ti tiene per 25 30 minuti poi si perde completamente al di là degli stereotipi che comincia con uno stereotipo che io non ne posso più di vedere che è la famigliola nella casetta di legno e pietra con la station wagon basta non ne posso più c'è questo funerale della nonna i primi flash sono interessanti ci sono queste apparizioni a flash ovviamente volte a scioccare fatte piuttosto bene questa bambina che ha questa faccia brutta così già dall'inizio mi fa pensare che questo regista sia un gran paraculo che si intenerisce per i deboli e gli oppressi in realtà non gliene frega un cazzo non gliene frega un cazzo perché questo film è una gran paraculata perché questo non si sa bene il film ricorda molto Rosemary's Baby e l'esorcista questo è il classico ennesimo caso di possessione ennesimo tentativo di fare l'esorcista ma pulitissimo cioè fighettissimo la cosa che aveva di forte l'esorcista che evidentemente neanche il suo tizio ha capito che era inserito nel tessuto urbano l'esorcista nel tessuto urbano e quotidiano anche col sonoro eccetera questo è ovattato è un film un videoclip è uno di quei film girati da registi giovani molto bravi tecnicamente che scelgono degli bravissimi attori che li ha arretto sta sceneggiatura in dei momenti di vuoto c'è stato Nicolette che addirittura a un certo punto fa un cambio espressione chiude apre gli occhi in una maniera e ti fa un cambio che non hai bisogno di effetti speciali sono bravissimi veramente anche Gabriel Byrne a reggere la parte del coglione che non capisce quello che sta succedendo però succede sta sorella che perde la testa contro questo palo e da lì io ho cominciato francamente mi ha cominciato a dar fastidio questo film perché aspetta piccola nota velocissima sul palo sul palo nel quale la sorella ha perso la testa lo vedi quando c'è la polizia grande c'è un segno c'è un segno su quel palo sì lo vede prima di andarci se non sbaglio te lo fa notare prima di andarci regista questa ammazza la sorella lui ha voluto in qualche modo prendermi in giro regista dandogli un impianto comunque inserito nella realtà perché i ragazzi vanno a scuola vanno alle feste quindi esistono altre persone in questa società sì ma è stato un incidente la mamma va a raccontare la sua vita in una di altre in una di quelle robe alla Fight Club all'alcolisti anonimi va a raccontare le disgrazie della sua vita eccetera ok questo qui ammazza la sorella in un incidente e non cosa vuol dire tu hai detto che è un incidente ma questo non va neanche a pari non va neanche la polizia ma te l'ha fatta saltare quella parte a pie pari l'ha saltata a pie pari ho capito è chiaro che c'è stata un'indagine è chiaro che è stato interrogato il ragazzo è chiaro tutto però ai fini perché io me lo sono chiesto non è importante quando poi il ragazzo era sconvolto completamente tu mi hai fatto a cena con loro ho detto ma questo qui ho messo le mani nei capelli ho detto ma questo ha ammazzato la sorella gli si è staccata la testa la testa è rimasta a bordo strada della sorella il cadavere non si capisce dove sia finito perché lui quando è in macchina dopo l'incidente guarda nella direzione dell'incidente e vede qualcosa nel buio però il cadavere è rimasta la testa è rimasta la testa fuori il corpo dentro il corpo è rimasto dentro vabbè anche quello non si è capito dico ma questa la polizia non viene non dicono niente è una roba vera a scuola questa nessuno gli dice ad avere l'indagine ma tu non ci vai a scuola ma stai settimane a casa non è che ci sono quelli della setta pure a scuola ma ho capito ma se succede a parte come fai a capire queste cose tu e l'ho visti cosa vuol dire che li hai visti ma chi c'è della setta a scuola due dei suoi amici a scuola quelli con cui si fuma un cannone sotto le scalinate li rivedi all'interno di quella che è la casetta sull'albero nel finale ma io all'interno allora è un po' il concetto di Rosemary's Baby che c'è questa società esatto praticamente che come Rosemary's Baby cioè che tutti sanno tutto sanno benissimo quello che è successo e nessuno parla infatti ho detto piuttosto fammi vedere la polizia e fammi vedere che non dice niente perché sono tutti d'accordo poi però a quel punto subentra un po' la cultura cinematografica Tony Colette ha fatto il sesto senso allora io a quel punto ho iniziato a pensare che fosse lei che viveva una storia in un presente sognato e in realtà era morta da qualche parte imprigionata da qualche parte o posseduta da qualche altra parte perché per il fatto che facesse il modellismo esatto e in più questa casa e questa famiglia erano davvero fintissime perché il padre non è mai sconvolto cioè questa gli muore una figlia si sconvolge solo la madre perché il padre non è sconvolto comunque perché poi dice chiamo la polizia alla fine per me quella frase quella frase per me ha fatto crollare il film dopo un'ora e quaranta non vorrei prendersi fuoco cioè dopo un'ora e quaranta di film il tipo dice il barito dice a lei guarda che chiamo la polizia che cazzo è stato involontariamente comico il fatto che chiamo la polizia si è staccata la testa di tua figlia e non è intervenuto ma neanche il vicino neanche chi passava in macchina ha visto una testa per terra non hanno detto niente e l'hanno raccolta quelli della setta la testa la vedi nel finale nel manichino è piantata nel manichino quello con si ho capito che devo dire non lo sto difendendo poi perché lei fa i modellini perché fa modellini lei perché pazza vabbè ok grazie al cazzo ma allora devo capire tutte le cose per osmosi per intuizione così geniale c'è a Eisenstein devo capire queste cose fammi capire che cazzo è Eisenstein no è un montaggio per idee conosco Einstein non Eisenstein Eisenstein era un regista russo che ha inventato il montaggio per idee è un po' è un po' è un po' linciano se vogliamo però io non amo lince non amo lince no perché non va sull'astratto non sta con i piedi per terra ma non va troppo sull'astratto ma infatti non ha non ha pigli non ha una direzione chiara no cioè a un certo punto dici ok l'impianto è realistico diciamo girato un po' perfetto come un videoclip tutto giusto bellissimo quando invece gli horror all'esorcista i film di Carpenter falli un po' sporchi falli un po' brutti falli un po' indefiniti con poca definizione no tutto perfettamente definito e poi però ti sposti su una sfera stratta sognata dove lei praticamente comincia in pratica a vivere inizia un secondo film quando poi sono tutti in casa alla fine lei prende coscienza del suo essere posseduta e poi l'unica scena ghiacciante veramente del film è quella finale quando lui comunque scende le scale va in salotto quando sente il padre bruciare vede il padre bruciato e c'è la madre appesa al soffitto in un modo veramente assurdo e lì è uno di quegli effetti alla degrage the ring quelle cose che ti terrorizzano e soprattutto l'apparizione di quell'uomo nudo che lo indica gli indica dall'altra parte della stanza di seguirlo e a quel punto c'è l'inseguimento della madre la sequenza finale la madre che picchia queste testate contro sta botola cioè di colpo questa scatta gira una scena abbastanza ridicola quella delle testate contro la botola io questo film non ho capito se fosse un horror commerciale un film alla lince come dice giustamente Paolo per non dire sempre film d'arte un film alla lince un horror da botteghino non si è capito che cazzo volesse dire solo che me lo vogliono vendere come un nuovo Kubrick sto regista con un film come Midsommar che al di là delle scene cruente da un cazzo perché insomma lo eviti abbastanza in fretta il terrore soprattutto non ti rimane porca puttana poi cos'è sta luce perché la bambina vede sta luce poi vede l'apparizione di sua nonna in mezzo alle fiamme in un prato qua qua andrea mi hai scatenato il baba qua c'è no mi ha fatto incazzare io detesto un po' il fumo che gli esce dalle orecchie no perché è un paraculo maledetto sto regista che si sta prendendo delle osannate pazzesche per dei film che secondo me vanno ridimensionati perché sono quelli che adesso vanno di moda tra gli adolescenti questi come l'ha fatto quello sai cosa mi ricordava anche ogni epoca al suo periodo c'è stato quel regista che è quello di Jaime Balaghero quello di Rec che ha fatto quel film Darkness nella casa con le apparizioni anche quello uguale allora se posso dire la mia vai questo film mi ha fatto mi ha deluso abbastanza nel senso che come premessa io l'ho partito un po' prevenuto su due aspetti un po' perché avevo visto il trailer ne avevamo già parlocchiato un pochettino non mi attirava tanto poi io non sono un fan dell'horror salvo rari casi tipo io adoro Rosemary Baby e tutto quel cinema l'horror più psicologico ecco la prima parte erano è vero un po' un po' finta però mi aveva intrigato molto tutta la faccenda del piano psicologico della madre sul fatto che avesse questa famiglia composta dal fratello che si era suicidato si era impiccato poi c'era il rimando il fatto del fratello che quando prima di picchiare la testa contro il contro il banco si vede col braccio tirato su così che sembra anche lui impiccato c'è un rimando appunto anche no Andrea mi dice di no la cosa la posizione della mano nel braccio è un rimando al al demone cioè a uno dei re dell'inferno che tra l'altro esiste cioè esiste è realmente tratto dal da uno dei testi da uno dei testi sacri o quel che è che uno dei re dell'inferno e si mette in quella posizione che indica tra l'altro anche che è un rimando a quello che è il ciondolo che sono tre uomini o comunque tre teste che indicano ad est e sono che trasportano tre teste le tre teste di donna e infatti le tre donne hanno tutte in un modo o nell'altro perso la testa in sacrificio per le vocazioni di questo coso qua però è chiaramente il film non te lo spiega questo qual è la terza donna che perde la testa la nonna la madre la madre ce l'ha la testa alla fine se la sega se la sega se la sega ma poi comunque sbrocca no no ma c'è aspetta un attimo la mamma alla fine gli mette in testa la corona lui no non è la madre ah è un'altra ragazza quella fuori fuori no è la è la tipa che si la tipa che l'aiutava a fare le quella del gruppo rascolto che l'ha aiutata anche con la Ouija è lei che gli mette la corona che è la seconda diciamo in grado perché la nonna era il capo poi quella è la seconda in grado e tra l'altro tutti quei problemi familiari che hanno cazzo avuto sia fuori fuoco non si vede il fratello che si è suicidato eccetera era perché la nonna questa grandissima stronza cercava di portare questo re dell'inferno e rincarnarlo la bambina è così a quella faccia lì perché ti fa notare che la nonna era tanto presente infatti la bambina era molto legata alla nonna addirittura diceva che la nonna la allattava quasi e la bambina quella faccia grottesca che sembra un uomo perché tecnicamente posseduta e anche altro rimando Rosemary's Baby però Rosemary's Baby quello è proprio il figlio del diavolo cioè lì non sì 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 no vabbè ho capito però la tematica del fatto del bambino che rinascita sono stato a fare troppo sottile su sta cosa per finire un attimo il discorso su questo film allora a me la cosa che mi ha intrigato molto che potevano spenderci un pochettino di più nella trama e e il fatto che lei giocasse molto cioè facesse modellismo ricreasse queste scene sia per lavoro quindi faceva dei diorami per per commissione sia diorami anche legati alle vicende familiari e questa cosa qua è stata utilizzata molto nella prima parte e poi si perde non gli dà più spessore questa cosa qua secondo me è stata una cazzata che ha fatto e l'altra cosa è che sì la prima parte del film bellina e poi diventa un po' pallosa per certi aspetti molto telefonate le cose da i tizi che tritano le noci a altre cose quindi diciamo che ti spoilerà già che cosa sta succedendo tu sei già un passo avanti al regista ecco al regista al film ti vuole accomodare per terrorizzarti sì la cosa invece la seconda parte del film l'ho trovata per un non amante dell'horror poco horror nel senso che non mi ha fatto paura anzi mi ha fatto abbastanza sorridere sotto certi aspetti l'aspetto invece che poteva essere molto interessante ovvero tutto l'aspetto mitologico l'aspetto quello più di demoni e robe del genere non è sviluppato è tutto buttato lì infatti le notizie che ci hai detto tu Andre sono notizie che poi sono molto interessanti però le hai dette tu anche 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 molto logico culturale ma ce le hai spiegate tu non ci dice assolutamente nulla cioè questo Paimon e boh tanti grazie e saluti vediamo sta foto in sto libro con delle sottolineature e basta io l'ho trovato dozzinale come film dozzinale gratuito e buttato lì infatti io mi stupisco veramente che la gente e che soprattutto alcuni alcuni critici l'abbiano non dico osannato ma supportato non me ne è capacito questa cosa qua secondo me è un insulto a tutti i registi no eh oh scusa cioè se se lui prende prende non dico dichiaratamente ma si fa ispirare da determinati successi cinematografici riproponendocelo in una versione veramente abbastanza becerotta io lo trovo anche un po' un po' un insulto perché la citazione o il rimando si ma è strafottente esatto si presta è strafottente non non dà non dà valore a queste cose qua lo butta così è come un minestrone ha preso un po' di roba l'ha girata assieme ha creato questo però senza spessore non c'è non c'è tridimensionalità della vicenda dei personaggi già un po' di più ma ad esempio della ragazzina della bambina lo spessore è minimo è tutto giocato sul non detto no è giocato sul suo aspetto cioè sul suo aspetto sta bambina un po' bruttina allora tu devi immaginarti tutto ma che senso ha ma dagli spessore ma scusa ha maggior ragione visto che la metti che vuoi farmi sta stellegia della deformazione estetica eccetera a quel punto dagli però lo spessore il personaggio cazzo non mettermela solo lì e io devo avere pietà io guarda chiudo questa cosa qua tirando un po' le somme se lo consiglio o non lo consiglio su queste cose qua dicendo solo una cosa questo film basta e con questo ho detto tutto io aggiungo ancora che è lunghissimo dura due ore e dieci e la sua partitura è ripetitiva lui fa dieci minuti parlano e stai tranquillo dieci minuti te la fai addosso dieci minuti ma è tutto uguale fino alla fine la fai addosso molto relativo però deve variarla sta partitura io sono uno che si spaventa con gli horror ancora adesso mi fanno paura e ti dico l'unica cosa che mi ha spaventato e mi piace un po' spaventarmi e mi stava piacendo come me lo stava facendo all'inizio perché un po' è un po' non troppo mi dice ok è buono sto regista però mi fa divertire alla fine la parte finale quella che quando la mamma appare appesa al soffitto quella parte lì mi ha un po' mi ha veramente cioè mi ha un po' spaventato perché non te l'aspettavi e però diventa eccessivo con le mosche con la mutilazione tutti gli insetti anche il midsommare pieno di sti insetti molti sti vecchi con ste facce perché ho di vecchi non vuoi diventare vecchio mi devi far vedere tutti come dei matti dei malati gente che vive in un mondo parallelo e che vuole mangiare vivi giovani perché sono giovani cioè lui comunque si muove su delle paure secondo me molto superficiali deve crescere questo qua perché del talento ce l'ha l'immagine figa i momenti di shock ci sono dura un po' meno tiratela di meno per farmi vedere ste sospensioni lui che ammazza la sorella in macchina sta tre minuti ferma taglia bimbo cioè dai ma aggiungo solo una cosa c'è una io spero cioè andre veramente mi ha fatto piacere consigliato sto film non voglio non voglio offenderti non voglio mancarti di rispetto non mi sento né offeso né mancato di rispetto probabilmente mi incazzerei l'avessi fatto io no ti ripeto ha delle cose buone ha delle cose buone tonicolette è bravissima gli tiene sul film i momenti in cui ormai tu lo stai guardando e dici ma stai zitti se lei invece ci stanno dentro gli danno forza ancora a sto film quindi gliela ha tenuto su cioè l'ha diretto lei quasi sto film guarda dico solo ancora una cosa c'era un un critico cinematografico che faceva questo esempio sui film horror che una volta prendevano molto da quello che erano i romanzi anche dei primi del novecento tipo Dracula di Don Stoker L'Uomo Invisibile L'Uomo Invisibile non è proprio un horror però dove andavano a stimolare quello che era il sovrannaturale il mistero attraverso queste figure che terrorizzavano comunque la gente hanno sempre terrorizzato queste figure mitologiche l'horror poi si è trasformato diciamo andando a di pari passo con quello che era la società e quindi diventavano horror legati alla tecnologia legati a cose che ci erano più vicine perché ormai diciamo quell'aspetto sovrannaturale ci aveva un po' aveva un po' perso di di mordente qua va un po' a riscavare quello che erano quello che era l'eredità dei vecchi film horror che quindi prendevano queste queste componenti qua ma in maniera abbastanza sterile senza senza delle basi che permettano allo spettatore di leggere o comunque non leggere in senso gratuito cioè che glielo piazzi glielo spieghi cioè grazie rivederci ma di che permettono metterlo in condizione allo spettatore di goderselo di godersi tutto l'aspetto sovrannaturale invece no mi viene in mente anche oddio The Last Prophecy chiamiamolo un filmaccio però carino dove spiega tutto il discorso fra la battaglia fra angeli demoni e robe del genere che comunque mi ha acchiappato anche se non è un filmone e lì purtroppo perde tanto beh non è un mockumentary anche che è stato un flop a me onestamente non è piaciuto più di tanto l'ho rivisto tra l'altro anche neanche tanto tempo fa quello con Johnny Depp sì ho presente lì meno male ti fa ti cattura comunque tutta la componente misteriosa il fatto delle carte il fatto cioè lo spettatore viene portato in quel mondo viene condotto pari passo insieme al protagonista che prende coscienza di quella di quell'aspetto lì qua proprio niente qua rimane praticamente l'aspetto di Paimon della setta robe del genere rimane il secondo se non terzo piano non ma io io vabbè io personalmente ho una una mentalità strana nel senso ma questo è proprio il mio personale quando vedo un film quando vedo un film che non capisco come è stato il caso di Ereditary perché io in Ereditary non l'ho capito sono una persona che cioè io di mio mi incazzo e vado a leggere e a vedere determinate cose per riuscire a capirlo cioè nel senso con questo non sto andando a giustificare quello che è il film perché giustamente un film dovrebbe essere capito interamente guardandolo cioè ma di mio in quella nicchia mia personale preferisco molto di più un film come come questo che non ti spiega un cazzo ma ti lancia degli spot e degli indizi su determinate cose che poi mi vado ci penso sopra e mi vado a riguardare vado ad analizzarmi determinate cose rispetto magari a un film che mi fa capire tutto ma questo veramente non è una sorta di giustificazione anche perché cioè un film dovrebbe essere capito totalmente o forse non totalmente ma comunque nel 90% del suo messaggio alla prima visione questo vuol dire che un film ti racconta bene quella che è la storia e ti racconta bene quello che ti sta raccontando ma quando un film ti costringe ad andare a vedere determinate cose non è ben raccontato o magari sono io che penso sono stupido non ho capito un cazzo aspetta un momento non voglio fare una figura di merda fammi analizzare no a parte gli scherzi ecco uno degli esempi perfetti di bilanciamento tra le due cose l'abbiamo anche citato è Matrix Matrix è un bilanciamento perfetto perché ti fa capire subito la trama principale del film cioè macchine uomini casini cazzi e mazzi ma se vai ad analizzare sotto i Wachowski in Matrix hanno messo l'ira di Cristo da da simboli adesso poi ne approfondi poi c'è da dire veramente due libri tutti i simboli tutti i richiami tutte le cose che hanno messo anche semplicemente nelle strutture nelle forme nella posizione degli oggetti del film quello è un film ben bilanciato perché ti godi la storia subito ti appassioni anche ma se vuoi approfondire ci sono un fracco di messaggi nascosti guarda su questo su questo si pienamente ragione e io consiglio adesso non c'entra un cazzo queste cose qua ma per quanto riguarda queste doppie letture questo intrigarsi della delle persone pippe mentali che si fanno i registi è un anime una serie non neanche tanto lunga si chiama Ergo Proxy guardatela perché è un piccolo gioiello dell'animazione sì non l'ho vista ma ho presente lo so di uno spessore culturale di una bravura a livello di sceneggiatura di rimandi a tutto quello che è stata la cultura popolare e non popolare del bello dell'invento e non solo è un anime di fantascienza stupendo stupendo e lì è anche secondo me in questo caso l'emblema del mi godo pienamente quello che è il la struttura la sceneggiatura l'andamento del in questo caso qua della serie ma se voglio approfondire mi ci perdo mi ci perdo perché va in questo caso qua a citare mitologie e cultura asiatica dell'India parla di Turing insomma Alan Turing 1500 cose perché è fatto bene comunque concludendo perché ormai siamo anche un po' cotti io sono cotti sono come la mamma di ereditary sono la mamma di ereditary dai abbiamo 6 minuti e 20 dai flash inizio io sicuramente ereditary io ho trovato un film non è ecco lo definirei un film non per tutti è un film che sicuramente ha delle criticità sicuramente ha delle cose che non vanno però mi sento di dire di questo film guardatelo se avete voglia di togliervi degli sfizi e di indagare sul detto o sulle cose accennate se avete voglia semplicemente di vedervi un horror se avete voglia semplicemente di vedervi un film con un ritmo sostenuto che vi intrattenga non guardatelo perché non vi non vi intrattiene proprio perché è fatto in questo modo qua ma se avete voglia di fare un po' di detective su determinate cose ve lo consiglio in altri casi no boh non è quella casa nel bosco degli horror facili ma quanto è bella la casa nel bosco mamma mia che gran film bellissimo non è un horror facile questo però gli dico a sto qua guarda io gli regalerei la sufficienza più stiracchiata soltanto ad un patto per dirgli una cosa a sto stronzetto tiratela di meno e cambia cambiate formula c'è sto diavolo basta si esorcisti se pa ha rotto il cazzo c'è Rosemary's Baby è l'esorcista basta piantarsene in testa ci hanno fatto successo perché quelle tematiche non erano state rappresentate in contale realismo fino a quel momento bom l'hanno fatto hanno fatto mille cloni anche buoni basta questo vuoi essere rivoluzionario nuovo il nuovo cosa bla 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 Midsommar che è il suo secondo film cambiate sti cazzo di sacrifici umani diavoli la stirpe del male 2012 un mockumentary figo sull'esorcismo in casa una coppietta che vive delle situazioni sconvolgenti e quello interessante parola Bergonzi gli ultimi quattro minuti sono già espresso per me il giudizio è benissimo l'efficienza comunque non gliela do benissimo quindi io direi che abbiamo tutti detto abbiamo tutti detto la nostra c'è chi ha promosso e chi ha bocciato i vari film tra l'altro tutti i film sono stati praticamente promosso ai pieni voti tranne questo io sono lì cioè io gli darei cinque cinque e mezzo a questo qua se non che spero faccia qualcosa spero che gli serva da lezione e cambi genere comunque cambia genere piuttosto cazzo fai un film d'autore su un malato non so di qualcosa comunque esatto comunque tirando le somme ringraziamo tutti coloro che hanno avuto il coraggio e la voglia e soprattutto il desiderio di seguirci fino a questo punto durante questa epopea no la fantasmagorica di vari film speriamo di avervi intrattenuto in qualche modo mentre stiravate mangiavate guardavate un punto nell'universo e quindi vi ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato Federico Bava Paolo Bergonzi e soprattutto ultimo ma non meno importante me no sto scherzando al di là di tutto niente ci vediamo nella prossima puntata che tra l'altro questa qua è la puntata conclusiva numero questa è la tre allora e se il partito dice quattro oddio no lo dividiamo in due cinque convincimi la dividi in due convincimi e va bene giù ha tornato allora fatemi fare solo una piccola chiusa allora poi chiude il primo capitolo di questa serie come la chiamiamo dove tutti e tre abbiamo dato il primo e l'ultimo film ma si aprirà un nuovo capitolo con un ospite avremo un ospite fisso che sceglierà in questo caso qua il primo film spoileriamo il nome che è l'ospite l'avete già visto ospite a caso nella seconda puntata Alessandro Galli le fan ragazza calma l'abbiamo scelto soltanto perché appunto attira fans giovani belle e disinibite e aumenterà notevolmente la nostra visualizzazione tra l'altro che verrà chiamato lui è un professore tra l'altro il professore il professore abbiamo anche la casa di carta ci fa una sega magari darà un valore aggiunto darà un valore aggiunto a quello che a quello che sarà probabilmente la nostra esegesi dei film benissimo quindi saremo in quattro tu vuoi fare Tokyo ma guarda io fossi una come Tokyo probabilmente inizierei a divertirmi e a darla come se non fosse nemmeno mia per scalare la vetta però dato che ahimè non sono lei e voi non siete dei politici non ve la darò vabbè sì dai sono generosa comunque io faccio Marsiglia il sapone intendi quello lavorato nel fiume bene è rimasto meno di un minuto ringraziamo tutti per essere stati con noi alla prossima ciao a tutti bacini baci ciao buona buon tutto ciao